Non ci credeva che questo non sarebbe più avvenuto, che in questo canale, che in questo canale, che sarebbe mai più stato un po' pronto con il dono e il giorno del giudizio è arrivato. Oggi è il giorno in cui tutto questo inizierà o inizierà qualcosa di nuovo. Nessuna pietà. Oggi è la notte del giudizio, oggi è la notte del giudizio. Colui che mi ha creato come streamer, l'unico che può dire di aver creato, di aver creato un po' e di altro, da sera avrà avuto un controllo finale, l'ultimo, dei tanti controlli che abbiamo fatto. Chi dice dal giudizio, qua se lo ricorda, se lo ricorda, tutto è iniziato da lui e risorgeremo da lui o moriremo con lui fino alla fine. La base deve essere alta, le cose più importanti sono quelle che ci diremo oggi, non vi preoccupate. Vitere e viteremo. Ragazzi, a parte gli scherzi, a parte tutto, aspetta che tolgo queste luci. Sì, la gag. Vabbè, ma questa è la dedicata a voi della fanbase proprio antica, ragazzi. Cioè, lo sapete, lo sapete, lo sapete. Cari ragazzi, sperate che riaccendo tutto. No, svec, ridate i numeri dei numeri. I vita, svec, 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 svec. Perché non c'è tempo di reaction, non è tempo di reaction. Dovito, svecci la chat domani, vai a piangere. No, no, ma non ci sarà bisogno. Alf, ma un ritorno a aiutarlo a chiese? Vedremo, vedremo come andrà stasera, ragazzi. Vedremo, vedremo, vedremo. Io sono a parte gli scherzi, sono contento perché è un po' il ritorno alle origini. Voi lo sapete, chi mi segue da tanto lo sa. Qui abbiamo iniziato proprio da questo. Tasto sbagliato, no, svec. Si preoccupi, no, no, è solo che adesso purtroppo non posso fare reaction. Abbiamo un impegno che va oltre qualsiasi cosa, ragazzi. Un impegno che va oltre qualsiasi cosa. Io spero che sarà un modo per divertirci insieme, a parte il scherzo. Che passiamo un'oretta, due orette, quello che sarà, quello che durerà il confronto, a divertirci. E spero che vi divertiate anche voi. Io sono già sicuro di divertirmi. Con Vito ci siamo, al di là di tutto, al di là dell'odio, dell'amore, ci siamo sempre divertiti tanto, ragazzi. Chi mi segue dall'inizio, chi segue la Lord dall'inizio, lo sa. Infatti vedo che siete gasati stasera. È giunto il giorno, Branche. Si ritorna, si ritorna. Si ritorna alle origini. L'altro ho appena detto che sei uno sbirro. Ringraziolo, Maxime. Ringraziolo da parte mia. Allora, ragazzi. Qualcuno chiede a Vito se è pronto. Se potete passare in chat da lui e scrivere se è pronto, io entro sul suo Discord. Perché abbiamo detto... No, ragazzi. Non mi dite Island 3060, perché troppi ricordi. Cioè, già stasera... Cioè, già questo è un periodo complicato emotivamente. Tra l'Iccardo che se ne vale, le colli bannato. Quindi per me è molto complicato questo periodo, lo sapete. Ma uno Streamyard, io glielo posso anche proporre. Io lo propongo, uno Streamyard. Vabbè, vado io, dai, in chat da lui. Aspetta. Vado io, in chat da lui. Aspetta che metto... Ok. Ma... Ma io non lo vedo su Discord, eh. Ti sto scrivendo, eh. Eh, ma ha detto che lui non ci deve stare live. Eh, deve stare lui da me. Eh, io sono da te, Vito. Più di questo... E si tolga quell'immagine sopra, ditelo. Ah, ok, sì, lo tolgo, lo tolgo. Lo tolgo, hai ragione, Vito. Non ci sono sbagliato, è stato un errore. Avevamo avrei promesso. Oh. Ce l'ho pure scritto... Ma meglio Discord, perché Streamyard gli amici tuoi... Non sei un vero uomo. Non segni mal. E... 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 mi sono mutato inavvertitamente scusatemi no che sta scammando io sto entrando sul suo discord non c'è nessuno scam adesso parleremo di questa roba anche io non ho mai detto che non sarei andato in live questa è una roba che si è inventato lui ovviamente allora vado in generale 1 ragazzi sto entrando ufficialmente in generale 1 da Don Vito in generale 1 come ai vecchi tempi ok sorvoleremo sorvoleremo e mi sposti c'è Mimmo ciao Mimmo Mimmo Mimma fatemi vedere se attivo la webcam come si vede qua è tutto scammato devo ridimensionare tutto ragazzi perché questo è per streamer con Wider non avrò nulla più a che fare con questa bestia mi sembrava lui veramente raga non sono spaventato dite a Vito che sono qua io cosa aspetta cosa sta aspettando il signor Vito sto mettendo a posto così c'è già il layout pronto 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 vanni Vicente pronto perché non mi si ingrandisce come voglio così ragazzi sto aspettando che mi sposti Vito tu l'hai promesso e ce l'ho pure la chat che non andavi in live perché è stata stata la live ma non l'ho mai detto questa cosa Vito non l'ho mai detto ho detto che non l'avremmo fatto sul tuo disco l'unica cosa che ti ho promesso no 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 non avrei no no ma perché scusami ma io faccio lo streamer e non dovrei andare in live non ho capito perché tu così facendo farei il tuo spettacolino sul tuo canale con la mia faccia e mi dispiace questa cosa ma lo faccio sul tuo con la mia no perché io fare una live seria e invece tu fai tutto di più per farmi arrabbiare ma scusa ma tu prometti ma parti prevenuto io volevo fare pace con te prometti in tutto in tutto su Tucci Italia che automaticamente si stacca la connessione non si si connette per sette giorni internet prometti su questa cosa che la prima cazzata battuta guarda fuori dai coglioni cioè veramente io metto su youtube cose che tu sai bene e Emanuela Sabrina ma questo non è ok già hai capito ho iniziato ma io volevo fare pace con te tu mi inizi subito così cattivo allora io mo metto la cam la prima cazzata si si vito metta la cam innanzitutto effettivamente in prima innanzitutto so io quando metto la cam e ti stai zitto che stai pure sul mio canale ma io sono venuto qua per fare pace non era per fare la guerra Vito se era per fare la guerra restavamo guerrigliati come prima allora io Vito non capisco perché lei prese e comunque dia da vece che l'ho sbannato comunque aspetta e comunque io non scappo bello a vece caro amico mi stanco io gli ho detto però sul mio canale e lui ha streamato io sul tuo canale sono sul tuo disco l'ho soldato tutte le tue condizioni perché non dovevo andare live scusa ma lavoro anch'io su questa piattaforma Vito vabbè lavoro oh mio dio eh lavoro prendo dei soldi equivale a lavorare cioè tanti o pochi che io prenda questo non posso neanche dire quanto però lavoro comunque ti ha sbannato invece però dice che lo devi anche sbloccare dice a vece l'ho sbloccato a vece così mi ha detto in primis ciao wide in primis esatto ciao sei iniziato ho detto ciao wide ciao Don Vito nome e cognome diciamo giustamente nome e cognome io stavo dicendo sei iniziato virulento ma a vece non spammare perché se non si capisce un cazzo per favore io in realtà appunto perché so come sei e so che ti divertente usare le persone ma vabbè quello è un altro discorso ma infatti per esperienza personale so che tipo di persona sei quindi ecco perché sono partito prevenuto visto che tu va che tipo di persona sono io sentiamo uno che tranquillamente usi le persone soltanto per un tonno a conto ma vabbè andiamo avanti su questa cosa io sono molto sono molto interessato a questa cosa qui perché non è la prima volta che me lo dici e l'ha detto anche qualcun altro quindi diciamo che ti posso prendere come esponente di questa di questa filosofia che Wydalph usa le persone secondo te perché uso le persone e poi insomma le uso e poi dopo le mollo lì così le tiro nell'angolino perché tu hai questa brutta abitudine che tu dici noi siamo amici se ti prendo per il culo se ti prendo per il culo lo devi accettare se sei un vero amico se sei un vero amico in primis quando stavo male che ero depresso quando sei stato male innanzitutto aspetta cioè Vito io e te siamo stati amici secondo te all'inizio io ti pensavo come amico perché ti volevo pure bene ti volevo venire pure a Torino rischiando di incontrare polizia polizia e pur su questo caso poi andiamo avanti su un'altra cosa comunque mi stupisce questa cosa aspetta mi fai finire parlare vai 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 ci mancherebbe io la persona intelligente brava che si sa grazie a Vecch hai fatto qualcosa di utile oh ha visto ha visto ha visto Vito oh vedi che è servito già è servito a qualcosa questo incontro allora in primis il il fatto è che a parte che e non dirgli no che ho le prove io non voglio tornare su questo fatto qua di Emanuela Sabrina che tu sai bene di averlo fatto sa cosa la lasciamo no no allora io te lo dico allora io ho fatto l'account Emanuela Sabrina quando ero bannato per scriverti ma era entro tra l'altro è stato eliminato subito dopo quindi ammetto tranquillamente aspetta fammi finire ok ok ammetto ammetto tranquillamente di aver fatto questo finto account per scriverti però capite era un troll non era nulla di ne che ti ho scritto brutto coglione vai a fare in culo hai fatto una cosa una cosa che tu definisci non amici loro tu definisci loro bulli loro chi? il cebro io hai fatto una cosa che tu definisci il cebro spesso capitava quando è che facevo le dirette con loro e vedevi che forse Marra era stanco che venivo in la vita loro comunque facevo una reazione strana ma io ho detto mai che il cebro sono dei bulli? beh non mi confronto mi è capitato più di una volta che hai detto io ho detto che io quella sera che sono entrato dal cebro aspetta aspetta un secondo non ho finito di parlare tu nella chat mi hai scritto una cosa brutta ma hai scritto una cosa che mi faceva un bullismo a scuola e l'ho detto più di una volta te l'ho detto non sto chiammi mai il cognome se sei un vero amico quella roba lì l'avevamo già chiarita io te l'avevo detto non mi interessa è una cosa sbagliata ma non è una cosa sbagliata se uno lo fa come ho fatto io solo per allora pure io guarda se hai la madre puttana ma non mi devi non ti devi arrabbiare te l'ho fatto in amicizio non ti devi arrabbiare noi cominciamo con gli esempi ti prego Vito mi emoziono ok se cominci con gli esempi così mi vengono in mente ricordi di troppo tempo tranquillamente là ti ho chiesto pure scusa non mi hai mai chiesto scusa in vita tua a me aspetta una cosa alla volta Vito andiamo con calma allora per la questione dello storpiamento chiamiamolo così del nome del cognome no del nome era no tu mi hai chiamato Vito e il cognome mi hai stroppiato ah era il cognome giusto hai ragione quanti anni hai il cognome il cognome quanti anni hai ma quanti anni hai ma fammi finire di dire ma quanti anni hai io è una domanda seria proprio 24 24 tutta la misera stai messo male per fare il battuto del genere a 24 anni ma non era una battuta allora ti spiego com'è andata quella volta io mi ricordo anche grazie dei beat vediamo chi è l'intelligente grazie a Vecch hai visto a Vecch è tornato la tua parte ti stavo dicendo io quella sera lì mi ricordo anche dove era quando è successo ero al ristorante cinese con amici ti ho scritto quella cosa lì e tu hai avuto quella reazione io non sapevo minimamente che ti storpiavano il nome così alle medie alle superiori io l'ho tirata a minchia ce l'ho proprio io te l'ho detto tre volte l'ho detto l'ho detto pure in live ma io non c'era te lo giuro io le mie colpe me le prendo non c'è problema c'eri te e Mimmo anni fa un annetto e mezzo fa quando dissi non dovete dire quella frase perché mi storpiavano tu mi avevi detto di pomodoro mi avevi detto tante cose ma questa roba qui non me l'avevi mai detta tant'è che io mi so l'ho detta a cazzo e quando ti sei incazzato te lo giuro Vito guarda te lo dico proprio con un estremo giuro che non ti si alza più e ti si stacca giuro su tutto ciò di più caro che io quella sera te l'ho detto e ti diventa secco e ti si stacca adesso secco stacca poi mamma magno ti stavo dicendo giuro che non lo sapevo tant'è che te l'avevo anche detto te l'avevo detto minchia perché ti sei incazzato così e tu mi hai detto perché a me a scuola mi bullizzavo e io che cazzo ne sapevo Vito non lo sapevo ma che cazzo ne so io della tua storia Vito non posso mica mai sapere l'ho detto più di una volta più di una volta in live ti assicuro che io con tutta la buona te lo dico veramente con tutta l'onestà di questo mondo comunque ti chiedo scusa ma te l'ho già chiesta scusa all'epoca ti avevo già detto mi dispiace non lo sapevo però quella reazione lì mi aveva detto minchia che cazzo bravo Veccio continuo a donare i soldi bravo Veccio doni 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 sempre a a Don Vito stavo dicendo allora io sono venuto qua stasera perché mi son rotto il cazzo di avere nemici sul web capito poi Vito io quello che ho sempre detto che l'unico che può dire di aver creato White Half sei tu e in parte è assolutamente vero ma è assolutamente vero no 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 perché sai che ci sono stati molti in questo periodo che sono osati dire io ho creato White Half tra cui il social media manager numero uno tra cui il Pipega un sacco di gente ha osato dire il Pipega lascio sai amico mio e mi vuole bene sì però hanno detto una falsità cioè che mi hanno creato loro vogliamo dire una volta per tutte che è Don Vito che mi ha creato sì tu sei parte di me se non fossi per me nemmeno tua madre sapeva chi è no però non riutilizzi le frasi del social media manager non mi discusi che cazzo ne sapevo che io mica non sto messo così male che prima dici lecchi il culo al social media manager e poi lo dissi quando ho messo il discord io non ho mai leccato il culo a nessuno e poi hai un chat mi avevi scritto da me eh Don Vito perché non vai anche tu al social media manager mi sarebbe piaciuta la combo te e Riccardo mi avrebbe fatto venire da ridere aspetta e poi automaticamente quando ti serviva ma non è vero che c'è dice così e bugia di qua di là e poi volevi che il cerbero ti vedevano il clip eccetera eccetera è un po' un controsenso o vai contro o vai a favore ma io non sono mai stato contro il cerbero io quella sera che io e te cioè che io sono andato al cerbero e poi ti hanno fatto entrare a te per fare il confronto l'unica cosa che mi è stata sul cazzo è il fatto che non mi abbiano dato modo di spiegare bene le cose poi ovviamente ho anche detto ci sta che c'era poco tempo perché era il discord aperto ovviamente non è che potevano dedicarsi tutta la salata a noi però mi è stato un po' sul cazzo quel modo di fare soprattutto di marra del non lasciarmi parlare ma io l'ho detto chiaramente ma non me ne frega un cazzo stiamo parlando del passato va bene così io col cerbero non ho nessun tipo di rapporto né buono né cattivo e non l'avrai mai ma loro sanno benissimo chi sono Vito questa cosa qui accettala perché sanno benissimo che è Whitealf perché è impossibile non sapere chi sia io ormai mi sono intrufolato in qualsiasi buco perché sono un arrampicatore sociale ne lo sa bene però finalmente l'hai detto oh era ora stasera c'è il coming out di Whitealf ha visto incredibile eppur che non sai nemmeno suonare questa è una bugia Vito è fattualmente è fattualmente una bugia però tu sai bene perché io mi sono allontanato da te questo sì questo lo sai perché io ti ho cacciato all'inizio ti ho cacciato io e io non volevo più avere nulla a che fare con te eravamo in un periodo un po' di litigio però tu sai di avere sgravato sappiamo bene cosa è successo io non voglio e vabbè lo so ma non perché te l'ho detto non è che io la mia live o le mie live sono su dire questo fa questo fa quello fa quello sto facendo una spiegazione sai bene che quando parlo parlo male quando sono arrabbiato e ho invertito delle frasi non è che tranquillamente però devi essere onesto non è che è invertito io quella clip me la ricordo bene ce l'ho ancora hai espresso un concetto non badando al fatto che era una roba gravissima diffamatoria e che aveva una valenza anche a livello legale perché io ti dico la verità io mi sono informato se legalmente anche se sapevo che era così poi ovviamente ho deciso di non andare avanti uno perché e tranquillamente io avevo altri progetti di cyberbullismo non mi comprendi account fake e tutti da parte mia guarda bullismo video proprio non ne hai mai subito da parte mia se poi gente che e poi comunque unicitù della mia community allora quello che è un altro discorso ma io personalmente non sono un burro non l'ho mai fatto neanche con te e questa è un'altra cosa che mi è stata sul cazzo che è passata al cerbero perché di bullismo io ne ho visto tanto nella vita e ti assicuro quello che ho fatto io e tutt'altro che bullismo sai bene che noi ti abbiamo sempre cercato di comprendere le nostre salottine le nostre attività per cercare di tirarti un po' fuori dalle tue attività che ti chiudevano un po' e ti facevano sì che ti incazzasse tipo giocare a Airston per sei ore di fila guarda che io su Airston anzi mi diverto e c'ho anche sono più bravo ma non sto parlando di bravo o cattivo ti sto dicendo che tu ti mettevi lì a rancare e magari perdevi quando perdevi ti incazzavi e quindi ma la tua community senza offesa senza offesa non quella nuova perché forse ci sta qualche persona nuova che ha un cui superiore all'ottanta quindi ragiona forse è qualche fan nuovo che ragiona visto gli spettatori quella media di 30-40 spettatori che faccio grazie a me più un'altra quarantina grazie a polizia polizia e social media manager io posso dire adesso va bene il meme voglio essere chiaro appunto ci deve essere una salata dove si scherza ripeto per me è una salata di chiarimento non è una salata di tirarsi merda devi subire quello che ho subito io quindi però Vito siamo sinceri non esiste questa roba di rubare la community tu questo ci puoi grazie Conte Monte Cristo oddio c'è una combo di ride pure non ho capito un cazzo Conte di Monte Cristo è un moderatore del social media manager numero uno in Italia è importante se sia buona che mi fuga a me no no non so cosa stia succedendo da te lo stavo dicendo così quindi appunto tu sai bene che rubare una community non è possibile i mercanti di orecchie mi hanno fatto anche la sigla dicendo wide alfa ruba la community per il meme perché tu sai bene che non esiste nel senso che le persone ti seguono io al mercante di orecchie gli ho detto facciamo una collab mi ha aiutato a fare la sigla più che la sigla io voglio fare una canzone io volevo fare una canzone mezza trap diciamo un po' trap ma te fa cagare la trap Vito ma io la trap contro il bullismo e contro gli haters ah ok una trap un po' gore ma cantata da te si con i mixing e altre cose varie fatta bene fatta bene si si ho capito e ti stavo dicendo caro wide e volevo fare una canzone tra cui avrei mandato una frecciatina nei tuoi confronti ma anche violenta vabbè la trap è quella del tipo non posso dire perché bannabile su twitch perché avrei detto frasi proprio ma se quella sigla la devi mettere su twitch Vito come no 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 la canzone proprio una canzone mi devo fare soltanto alla base ma non da mettere poi su twitch se non mi bannano del tipo se poi ti facevi la reaction non soltanto non ti inviamo lo strike sai cosa ha fatto una volta Eminem scusa aspetta che c'è c'avecce nel cadonato voglio sentire cosa diceva mi sta venendo il vivomito questo ci ha bannati per mesi senza motivo io che sono il suo più grande fan ora torna e fa la bella faccia trentaspecto ora grazie a chi li ha Vito sei un colore allora aspetta allora Vito scusami a vecce ne dice che c'hai bannati per mesi senza motivo vabbè senza motivo giustamente lo decide lo streamer a vecce bisogna dire la verità e lui che è il più tuo grande fan dice ora fai la bella faccia ma in realtà a vecce ne io te l'ho detto questo è un confronto io non voglio più guerre con nessuno io volevo chiarire con Vito perdonarlo per quello che mi aveva detto perché io in realtà l'ho già perdonato perché sa bene Vito di aver fatto una gran cagata mi ha anche dedicato un video di scusa questo c'è da dirlo effettivamente su youtube Vito mi ha dedicato un video dove chiedeva scusa per quella cosa però io vorrei che fosse chiaro che per esempio io adesso Vito in quest'ultimo periodo ho anche avuto la possibilità di richiederla a partner o una buona media spettatori io penso di essermela guadagnata tu non sei della stessa opinione non sei dell'opinione che io me la sia guadagnata questa insomma i risultati piccoli grandi che ho avuto un secondo sì 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 prego tempo che ci va ti ho scritto una cosa in privato non legge ad alta voce grazie dove? su discord e non far vedere niente su disco non far vedere niente è una cosa aspettate e togli togli la cosa sì 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 tranquillo ecco perché ti odio pure però vabbè e tu il tuo gruppetto lo sa qualcuno lo sa quindi e non dire leggi in mente sulla mia chat è successa questa cosa sì e lo succede sempre spesso da me non l'ho mai visto grazie per il vincente stanco posso dire però chi devono bannare e no non puoi dire bannalo tu e la gente capirà e non so chi l'ha scritto no è il nick che è proprio così con ah è proprio il nick ok capito questo è uno che sta nel tuo gruppo no non c'è nessun aspetta perché io uno una volta bannai uno che mi stava rompendo le scatole che era un tuo grande fan non scrivesse cose in chat da te a massimo lo scrivi a un mod io nel gruppo moderatori dico di bannare quello che ha sto nome ok e di mettere la cosa privata ecco perché ho pure odio la tua community perché qualcuno sa ma non è la mia community aspetta io ho bannato uno delle mezzone ecco e siccome e siccome l'ho bannato perché tu non hai come posso dire cioè questo è la tua fan non tu non c'entri più o meno c'entri qualcosa tu è un tuo fan e gli ha dato fastidio non l'ho mai visto è la prima volta che lo vedi in chat da me Vito ma non questo qua lui ne crea tanti e continua a creare quindi sono due le cose sono tre le cose o mi dai una mano oppure tu se sei un vero amico e ti definisci amico e veramente sei un amico o mi dai una mano pure tu a scoprire chi è e io ma tu mi hanno detto che qui l'hai fatto vedere tu in live Vito però no no e lo dicono scrivono tutti in chat scusa no e io non l'ho fatto vedere Vito io ho tolto la schermata vabbè non importa vabbè comunque l'abbiamo bannato non io non l'ho fatto vedere niente c'è un piccolo eye trainer ragazzi nutriamolo non si deraglia non si deraglia così si dice giusto Vito tu che sei del giro del cerbo non lo so giusto ah ho capito poi per quale motivo mi ha bannato vabbè comunque ragazzi ecco perché questa non è una bella cosa sicuramente quindi l'abbiamo bannato mi fate un involto a stomaco l'abbiamo bannato soprattutto un'altra persona che dice eh ma perché l'ho pure sbannato questa persona non verrà più sbannata è amico del social media manager quindi ecco la mentalità di certa gente va bene comunque allora hai scritto questa cosa tu verrai ovviamente messo diffamato e querelato no 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 non c'entri tu wide tu verrai messo tu verrai messo come amico suo quindi passerai poi tu i guai insieme a lui quindi impara e non ho mai fatto vedere la via di casa secondo te no dicevano che avevano visto che lo scrivevi forse su discord non lo so vabbè non importa non importa andiamo avanti dai non ci perdiamo è vero è vero è vero la cosa qua di adesso dio porca hai visto perché sono troppo incazzato quando vedo sei cose ma devi fare attenzione vabbè ma Vito ma anche io ho sbagliato non voglio fare più la live ma no non faccio più dirette ma Vito ma si calma ma Vito non è giusto ma vabbè ma non importa anche io ho scammato il mio indirizzo delle volte non ti preoccupare non succede niente rilassa il fatto il fatto è che qualcuno poi si metterà a scrivere e qual è la cosa brutta io non posso avere più una privacy ora ma ho capito ma Vito ma in generale da anni mi è successo da Anna a Anna invece da Hank subito lo bannavano sapendo già di preciso che e che ne sapevo io Vito infatti l'ho bannato però più di questo che io non ci posso fare niente cioè nel senso quello che avevo io non posso io non posso più cioè nel senso allora Vito ascolta ascolta Wild allora la questione è questa anche Marra Liccardo gli ha scammato il numero ha dedicato il numero l'altro discorso la via di casa lo sai cosa significa che qualcuno potrebbe inviare il pacco di una bomba ma chi mai si farebbe tutta sta fidati a uno stream italiano gli hanno inviato anche cose brutte quindi ma queste cose succedono quello che ti voglio dire intanto calmati rilassati quello che ti volevo dire e se qualcuno ha PS se qualcuno aspetta un secondo se qualcuno fa vedere qualcosa avvecene dai per favore calmati perché l'ho segnalato eliminatemi lo elimino io vabbè ma avvecene ma porco Dio sai che te bannano verso l'occhio grazie per i cento aspetta ecco che inizia a piangere dai chi ti fila Vito perché devo eliminarti tutti i messaggi avvecene perché sei un coglione ma meno male hai capito ma no perché quando fa così perché mi hanno già bannato una volta per la modellazione per la modellazione della chat avvecene per favore non mi fa fare gesti entra per quel motivo mi offendi scusa ti volevo dire Vito per finire il discorso ti stavo dicendo queste cose qua sul web capitano perché siamo dei personaggi pubblici capita che possano succedere queste cose ti tuteli al massimo dopodiché io ti consiglierei di prendere questa persona che spamma il tuo che se qualcuno si mette a spammare le cose verrà segnalato e denunciato vi avviso bravo fai così piuttosto veramente seriamente questa è una roba grave cioè sul web scrivere l'indirizzo di casa di una persona è punibile di denuncia per cui passabile di denuncia per cui lo puoi fare dopodiché rilassati cerchiamo di tornare in un clima di relax come eravamo prima la moderazione mia vi chiedo se mai ci fosse un altro spam di questa cosa qua di bannare chiunque lo faccia a prescindere da chi è e basta rilassiamoci allora torniamo al topic Vito ti sei rilassato? più o meno possiamo parlare? non ho l'asma che fumo troppo rap purtroppo ho questo brutto vizio stavo dicendo allora facciamo un ricalcolo dall'inizio ok in realtà i nostri rapporti cosa Telegram lo sai che tranquillamente se poi non mi scrivi in privato il Telegram dove è stato messo sa cosa ti denuncio io e la coppia è la tua no Max stai zitto e non creare faide tanto chiudiamo sto livello 1 dai non lasciamolo così svanire stavo dicendo svanito lasciatelo svanire possiamo andare avanti Vito te la senti? sì allora io ti stavo dicendo adesso non vorrei neanche ripetere se questa poi alla fine è una live questa mia live verrà messa non cancellata ma verrà oscurata così per evitare altri scam che qualcuno potrebbe abbonarsi con profili fake e con sub fake solo per poter tributare vabbè lasciamo stare ma per cosa per indirizzo per la storia dell'indirizzo sì fidati che c'è gente pazza che fa cose perché non è la prima volta che mi è successo che ma te l'ho detto ma te l'ho detto no fake fake sub dico fake sub per vedere i board i board privati solo per i sub per mettere ma guarda Grit no qui mi chiedono se è normale essere bannati da te solo perché hai detto che c'è il miglior villain dei bosca allora lo sapete come fa Vito quei ban su questa cosa però tu tu hai la statuetta la tua sì ce l'ha la mia ce l'ha cioè la tua statuetta ce l'ha mi pare better no outsider forse ok hai una statuetta in generale là sì questa poi ti fa ridare la statuetta che ti fa ridare la statuetta se sei un vero amico e se sei un vero uomo inquadra il terreno un attimo il terreno e inquadra a terra un attimo e cosa devo perché fammi capire perché devo già inquadra no prima dimmi perché io poi decido allora hai presente quel marmocchiare della finestra eh sbatti la statuetta ma no ma questa non è la tua scusa questa è no te la fai ridare sbatti la statuetta questa è il miglior quota rosa questa non è ma perché scusami ma hai vinto un premio non ho vinto un cazzo perché tu mi hai messo come villain per quella cosa là della camp fake non della cosa attenzione non della non di quella cosa là che è successo perché già da novembre mi hai detto che io ero villain e ci sono pure i messaggi ma tu sei stato un villain di questo canale no no tu sei stato un villain che poi tu dà un bordello ma vabbè al massimo al massimo sono stati villain no ma è ovvio che non la spacco raga a parte che non è la sua questa quindi ovviamente non la spacco perché e con la statuetta lo sai dove te lo puoi mettere indovina ma guarda che carina ma scusami mi hai vinto ma hai vinto un premio no il premio il cancro preferisco del premio quella schifezza no ma perché è carina ma guarda che bella che hai con la testa dell'alieno con gli occhiali è stata fatta con tanta cura l'hai vinta la gente ti ha votato per amore cioè mica per odio è questo che è questo che devi capire villain non è mica una persona è un concetto lo sai da dove parte nel mondo dei supereroi comunque il cattivo ha un ruolo fondamentale sei il cattivo di me che hai fatto diventare che tu pensi che io sia cattivo di te in realtà la coppa è tutta ma è una roba goliardica non è una roba vera quando ritorneranno a Torino loro due devi prendere ma non lo farò mai Vito allora mi spiace non potremmo far pace oppure oppure se vado a Lecce se vado a Lecce ma scusa fai una cosa fai una cosa fattela dare ad outsider e poi se vuoi la spacchi tu puoi fare quello che vuoi se vuoi fai un video dove prendi la statuetta e la spacchi mi sembra una invece secondo me per la diciamo coronare questa pace sarebbe bello che tu questa statuetta l'accettassi e dicessi abbiamo fatto parte di una lore la nostra è stata una lore interessante che accettare è una merda guarda preferisco ma perché è una merda ma ci sei divertito preferisco che mi preferisco tu ti sei divertito non io preferisco che mi fanno un'operazione sbagliata poi non faccio e non posso fare più sport in vita mia ma perché capito ma perché ci sei scusa Vito preferisco preferisco star male fisicamente che riceve quella statuetta ma perché scusa quella dei dei boscar non l'hai presa quello come miglior scoperta maschile ah e quella come villain che avevi vinto il primo secondo anno non c'era no il secondo secondo anno non lo ricordo hai visto quindi se non sai le cose stia zitto ma che cazzo me ne frega io non so mica un cerberino non so le cose so che l'hai vinta ma non so che hanno e se non è che sono un fan del cerbero ti stavo dicendo scusa quella statuetta non l'hai accettata quella dei dei boscar dove hai vinto come villain non l'hanno fatta come per i cattivi ma se l'ave allora scusa non lo sapevo se l'avessero fatta l'avresti accettata no 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 io ho detto che io non l'accetto ma io volevo una cosa brutta ancora ancora donnazione sei tu che mi hai detto come villain non io eh sì ti ho candidato ti abbiamo abbiamo deciso insieme chi candidare tra i villain non l'ho deciso solo io e tu ovviamente fai parte grossa parte della storia di questo canale e quindi in realtà è un po' un tributo in realtà più che un no non è un tributo pure io posso dire tranquillamente white half come canale è il cancro di don vito tv va bene è come statuetta come miglior cancro di don vito tv white half e te la inviavo va bene ma io l'accetto ma c'è una statuetta di don vito secondo te io non l'accetto ma stai scherzando a me avrebbe fatto stra piacere vito io te lo dico cioè per me allora sai qual è la cosa io so che è difficile e forse hanno ragione anche io cerco di spiegarti dei concetti che tu non è che non capisci non li vuoi capire non è che sei scemo non li vuoi proprio capire il concetto è che per me questa piattaforma è sempre stato un gioco tu l'hai sempre presa molto seriamente ed è questo è il motivo per cui sono nati i nostri dissapori perché tu quella frase sei arrivata a dirlo perché probabilmente è veramente un odio nei confronti non è con te con Mimmo non mi interessa tanto non mi dà non mi dà alcun fastidio perché ci ho fatto l'abitudine perché sono più adulto di loro e anche se iniziassero a offendere a spammare a insultare che cazzo me ne hai fottato a me sono più intelligente io di loro perché ricordate se io non insulto ho la minchia più grande se io insulto ho la minchia più piccola quindi io ho la minchia più grande di tutti loro che loro che stanno in chat a insultare da wild non tutti cioè quelli che stanno in wild intelligenti è un gran discorso quelli che stanno a insultare significa che hanno la minchia più piccola della mia ed è fattuale allora Vito ti volevo dire perché poi ti sei perso a risposta e ripeto la cosa che ho detto prima ho detto il problema è nato tra noi perché tu prendi troppo seriamente questa cosa ok no ma ragazzi non lo sto cercando di convincerlo gli sto spiegando dal mio punto di vista è passato un annetto per cui ci sta anche che sia qui dicono tutti replica replica lo sappiamo sappiamo che i confronti con Vito sono sempre andati a replica aspetta grazie per il 100 dopo fammi entrare e mettiamo la prova dopo 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 allora stavo dicendo in realtà il problema è che tu prendi troppo seriamente per me questa piattaforma io l'ho dovuto spiegare anche tante volte devo alzare un po' ma è alto in realtà il mio audio raga fin troppo mi sentite male tu mi senti bene Vito si ti sento bene molti dicono audio per trollare stai tranquilli no 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 però magari era vero ok no a posto no magari alza tu il volume magari ce l'hai basso tu stavo dicendo il problema è che tu prendi tanto seriamente io questa cosa qui l'ho già detta anche ad altre persone per me questo è un gioco per me è show non è io quando stacco la live difficilmente mi è cambiato una volta sola di portarmi dietro un po' di di incazzatura da una live una live specifica è successo tutta una serie di cose sono stato mezzo diffamato anche in quel caso quindi mi ha fatto un po' rosicare ma di per sé io quando stacco la live smetto di pensare a quello che è successo lì non me lo porto non ho rancore io nei tuoi confronti anche se hai detto una cosa molto grave a me io in realtà non ti ho mai odiato non mi sei mai stato sul cazzo semplicemente ho detto vabbè arrivati a questo punto meglio che veramente non ci caghiamo più perché l'ho fatto più per te nel senso che io ho detto più e più volte ti ho detto ancora prima che poteva succedere quella cosa là di finire il nostro rapporto di amicizia però tu volevi continuare ed eri cioè continuare a dire no di qua di là se ti ricordi bene c'è l'ultima live fatta insieme prima di quel periodo lì sarà stata mesi e mesi prima io passavo ogni tanto a gennaio l'ultima volta che ci siamo visti su discord a gennaio ma per parlare di questa cosa qui che era successa di quella cosa che avevi detto tu io dico prima io ero venuto per parlarti e cercare di farti capire che avevi detto una cosa grave che poteva te l'ho detto ma pure tu non è che sei diverso da me ma io non ho mai toccato questi punti io posso averti trollato un po' in chat ma non ho mai fatto nulla di illegale Vito però mi ricordo lascia stare quando è che dovevo fare la cosa con Pagapanda che poi ho finito di giocare e sono entrato in live in altri casi è capitato spesso che ci stava una ragazza bionda ariempicatrice sociale che io non volevo tranquillamente no ma io so niente di male aspetta non volevo fare nessuna live just chatting in quel momento nessun accordo nessuna cosa volevo giocare a Airstone e voi e tu a cacare i cazzi in chat e vieni e vieni e sbatte il cazzo e io questa roba qua ho cercato anche di spiegarla al Cerbero quella sera ma non mi hanno dato la possibilità io quando facevo così con te Vito non era per romperti i coglioni ma non mi interessa ma fammi finire so che tu dirai ma per salvare per salvare il canale bla 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 no non per salvare non mi reputo un salvatore ti stavo dicendo era perché a volte vederti di tutti ingoblinito a giocare a Airstone c'era questa ragazza che era in live ho detto poi so che te parlare con una ragazza non ti rispeccio ho detto proviamo a scrivere Vito se vuole farsi due chiacchiere con questa ragazza ma lei aveva più spettatori di te in quel momento Vito me lo ricordo bene ce ne aveva una trentina di spettatori tu ne avevi 3-4 me lo ricordo benissimo e io ho detto ma non tanto per gli spettatori ho detto vieni vieni con questa ragazza e hai parlato e tra l'altro ti sei alzato io mi ricordo che da 3-4-5 non so quanti ne avevi sei passato a 20-30 anche tu perché la gente perché ho fatto just chatting non per te esatto non per me non ho detto grazie a me ho detto perché alla gente piaceva molto di più vederti interagire con una ragazza che stare lì a giocare a Airstone quindi oppure io quando faccio just chatting con Saki che saluto che è una delle poche ragazze che mi vuole bene e oppure è capitato non è capitato che ci sia in live però tu in maniera percolatoria tramite instagram di outsider prendi per il culo dicendo eh salutami Ruth a meno Ruth mi vuole bene ma chi non sta sì non ti ricordi a dicembre eri modificatissimo ti si vedono gli occhi rossi eri modificatissimo con una raglia grossa così di cannone a proposito una raglia non è non diciamo raglie perché non me la ricordo magari è vero magari è vero non me lo ricordo è vero sì 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 non me lo ricordo non me lo ricordo guarda fuori dai coglioni mi è dato fastidio che mi prendete per il culo Ruth che mi vuole bene e non chi mi vuole male oppure gente che stava con me soltanto perché per il nome di Don Vito TV capito e poi tu mi dici sempre Don Vito sei razzista ciò che non è vero e diciamo a tutte le persone a me mi piacciono i ragazzi di colore fuori dai coglioni questa è come allora non è una questione di Don Vito a parte che non penso di aver mai proprio detto questa combinazione di frasi sicuramente hai fatto delle uscite un po' discutibili lo possiamo dire ma secondo te se io ero razzista stavo ancora su Twitch no mi avrebbero già appena mi ha bannato e arrestato aspetta un secondo tu sei un miracolato io ho fatto tu non sei stato bannato dopo aver smosso tipo Thor roteato un martello minacciando i fan di prendere ammetti di essere un miracolato sono un miracolato perché io sono Dio Don Vito TV ah giusto questo è certo giustamente potrebbe essere quello il motivo comunque è fattuale che tu sia un miracolato perché molte no io sono una divinità è diverso io sono una divinità una divinità quindi tutti vogliono essere me ma nessuno avrà mai la mia minchia quindi ok e non ridere fa ridere serio mi fa ridere composto però sei consapevole di aver fatto sì sì no dico solo consapevole di aver fatto qualche uscita diciamo e ditti sul fatto degli albanesi io tengo dei fan albanesi l'altro l'altro giorno tre settimane fa lì ti parlavo proprio di quello quando hai detto quella roba degli albanesi tre settimane fa circa quasi un mese siccome sto facendo più IRL ora no perché mercoledì tu fai test e test in live tamponi in live ma quindi adesso lo possiamo dire Don Vito al covid cioè stavolta è ufficiale beh a meno in confronto a te non avrò non avrò problemi respirato è ufficiale Vito lo può dire per il content Don Vito al covid lo può dire ma io l'ho scritto più e più volte sì ma lo dica sì ma lo dica per il meme Vito dai ho il covid l'ho avuto in confronto in confronto a te che non fumo non bevo non fumo canne non avevo non ho avuto problemi respiratori possiamo clippare Don Vito ciao ciao no tu a ps poi ti devo dire un paio di cose a proposito di creeps e cose qua eh il in primis eh per tante altre cose eh poi se ti va se ti va questa live te la puoi scaricare per i fatti tuoi per rivedertela tu per i fatti tuoi però te la metterai non in elenco perché? poi ti scrivo un altro messaggio in privato però quando finiamo la live ok? ma perché non scusa ma lasciamo la pubblica questa live perché? per tante altre non sto qua a dire per le altre cose che sono successe in chat altre cose diciamo non proprio legit che ovviamente non sto a dire qua comunque è una questione di o almeno mettila soltanto per chi è abbonata quindi io ho i VOD solo abbonati io ho i VOD solo abbonati eh non non più di una volta mi è capitato di vedere adesso no ce l'ho da un paio di giorni perché sto pompando un po' il canale youtube e quindi ripubblico poi gratuitamente lì così la gente questa cosa però pubblica soltanto vedendo la nostra due faccia e togli la chat che tiene la chat in in come si dice in la chat è a schermo ma posso tagliare il video ma notare che ci sia solo se vuoi ci dobbiamo soltanto noi due nessun altro ok a meno quello per la questione questo te lo posso concedere ci sta poi su altre cose e comunque stavo dicendo io sto facendo molte IRL tra cui la gente piace in pochi mesi ho fatto un po' così ovviamente non sono riuscito a prelevare perché non ho fatto le 170 ore per dirti da domani inserò la maratona potevo farla pure domani meno male non l'ho fatta domani a maratona con sta cosa qua se non sarebbe successo un po' di più il bordello e in poche parole come stavo dicendo wide molti ragazzi albanesi e sanno che non sono razzista addirittura qualcuno di albanese mentre stavo facendo IRL è venuta a paretto ehi cioè vedi la lore e la combo di albanesi tra real life e chat e stavo tranquillamente venivo inseguito dai ragazzini però non Maranza perché poi nella mia città ci sono in Maranza e spesso sono stato aggredito in live e questa è la cosa brutta si sono aggredito addirittura i treppiedi mi hanno spaccato la cosa non posso metterlo a terra normalmente o che devo tenerlo aperto o che devo tenerlo chiuso non rimane fermo come dovrebbe perché me l'hanno aperto a forza senza svitare le cose che ho un treppiedi un po' professionale quindi me lo posso mettere a terra e fare le dirette senza stare per forza a tenermi il suo coso in mano e me l'hanno spaccato cioè sotto noi ci ricordiamo quello che uscita per dire che qualche uscita infelice l'hai fatta ma no non mi madonna sigmoid bran è spuntato fuori stasera da questa live accamba ancora incredibile e non lo vedevo da un secolo e ti stavo finendo di dire questo qua ha detto ehi amico cos'è che fai scusa tra l'accendo però devo cercare di disimmarmi in questa persona ha detto eh no faccio i diretti ho un po' paura perché se vedo uno che non conosco soprattutto con un accendo straniero un po' paura ah no lo vedi che l'hai razzista ma questa è una frase razzista cosa c'è tra l'accendo straniero no 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 perché ho distinto cos'è che vuoi fare questo è un istinto vedi che allora come sto scherzando è per il meme cioè ma lei si è fatto appena un autogol Vito proprio è per me statevi zitti madonna sante fate una risata autogol in diretta ma stia zitto comunista che cazzo ridi mi sto girando un bubulus proprio perché sono un comunista mi dissocio twitch bannate vuoi dare con me hashtag guarda che mi ha regalato marra sto cazzo ragazzi si è ingrossato Don Vito però sono una settimana sono quasi dieci giorni che non faccio palestra ma stai facendo palestra dura dura adesso eh si sto facendo bodybuilding e sto mettendo bodybuilding infatti allenare da come si chiama da come si è l'amico di Maurizio Merluzzo quello grosso Danny Lazzarin eh io ho scritto il messaggio però ha paura che gli rovina gli distrugga tutti i macchinari ah perché sei troppo potente giustamente non mi chiacca di striscio perché ha paura Tony Lazzarin vedi sono bicipite non ce la vai mai non ce la vai in me come a me va bene va bene comunque è un fan è un fan di origine albanese che è nato in Italia però è di origine albanese disse ma per caso quel ragazzo è albanese io ho detto io ridendo perché nel senso lui ha detto ma che è albanese nel senso capi l'ha beccato subito io ho ridendo si è di origine albanese ha detto eh me ne sono accorto subito perché anche io sono di origini cioè lui era proprio albanese albanese in Italia cioè di vista mi è capitato di vedere questo qua e questo qua invece il mio fan mi disse ah ok invece sono di origine albanese capi l'aveva sgamato che era albanese capi un albanese che sgama un altro albanese in Italia quindi la lord del far ridere come scena perché tu mi dicevi allora ragazzi allora calma calma poi allora Vito però io lo chiedo dopo 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 adesso finiamo un attimo noi ragazzi o lei non fate rivolti non c'è bisogno di fare nessuna rivolta un ex amico però comunque uscire da questo discorso lazzismo nel senso che al di là di tutto sappiamo che sono capitata dell'uscita un po' così te ne è capitata una ora voglio dire ce l'hai un po' va bene ma lo sappiamo ma noi te lo perdoniamo devo dire una cosa devo dire una cosa Gianni perché quando mi mi ruppi il braccio mi ruppi il sinistro e quindi sul sinistro meno forza e meno e meno muscolo dal destro per quello non perché ti fai le seghe solo col destro no io sai che mi faccio col sinistro perché le destra le ho usato per scrivere quindi ah ok 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 Vito posso streamarti una cosa da rivivere perché mi hanno mandato una clip sempre sono cose del di che cosa del passato aspetta ma di che cosa sempre te l'aveva inviata in stanco no 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 in stanco questo qua ha detto no no ah no no allora se sono allora se il sardo no pensavo fosse una clip vecchia no 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 sei il sardo che ah no 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 ma che sardo no ma che sardo non ti preoccupi se voi comunque vi siete perso tante belle live 6 settimane cioè chi vi porta a fare le giostre e fare le irreelle io fino a poco tempo fa ero bannato bloccato tra l'altro mi sblocchi da instagram posso manco vedere su instagram sblocca su instagram non è ancora l'onore più avanti quando mi ingozza me di bloccarsi se sera ti volevo scrivere per capire a che ora non potevo scriverti da nessuna parte che cazzo di senso aveva ah comunque ps tu non dire no non è vero tieni ancora gli audio in cui mi mi arrabbiai con te e li metti come audio speciale io ne ho uno solo che ho mantenuto tra l'altro i miei audio sono solo sub quindi non li possono spammare tutti a prescindere è una cosa irrispettosa nei miei confronti quell'audio recita wide non voglio più averci che fare con quella bestia quindi in realtà con wide non avrò nulla più a che fare con wide anzi recita me l'hanno permesso con wide non voglio più averci niente a che fare con quella bestia ok se proprio se proprio vuoi essere amiche dobbiamo realmente aver concluso riappiacificato se sei un vero uomo ma non la mettere sempre sul virile Vito se sei una vera donna allora no se vuoi ti mando una foto del cazzo in privato se sei una vera donna se non vuoi allora quindi sei gente food quindi non sei m6f ma infatti perché mi devi magari io non mi sento né uomo né donna Vito quindi sei un lgb2 se sei un vero lgb2 sono un plus mi sento un po' plus stasera ok quindi togli quell'audio ma questa ma è bello questo perché mi dice che sono una bestia ma dai Vito ma invece no se vogliamo venire incontro tu mi devi proprio dire tienilo in segno di pace non è come la statuetta no ma perché così mi vai conto oppure come oppure come quei video best off se così possiamo dire quei best off sì in cui tu mi fai passare per persona scema perché che sclero senza contesto perché tu mi avevi detto una volta queste tre parole tu sei fascista e me l'hai detto più di una volta che sono fascista ciò che non è vero perché io sono contro i fascisti ti ho detto hai fatto delle uscite vabbè no mi hai detto una volta più di una volta che sono fascista e non dire di no ma non mi dico di no perché perché ti ho detto che sono contro i partigiani che hanno fatto cose brutte non quelli che hanno sistemato che hanno salvato l'Italia dico quelli che hanno stuprato ma nella guerra ma vita non dire cazzati che era la guerra no 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 ma ti sto dicendo in guerra non è che ci sono i buoni e i cattivi cioè così si fanno cose terrificanti ma non è giusto assolutamente ma lo sai lo sai che è stato ucciso un prete da dei partigiani sai per quale motivo ma figurati quanti preti sono stati uccisi anche dai fascisti cosa c'entra cioè non ma lo so ma no tu dici vabbè è ucciso perché che so era un militare fascista tu dici vabbè un militare fascista era la guerra dovevano morire i fascisti ma ne hanno ammazzato più di uno ma il discorso è che in guerra purtroppo da ambo e le parti dalle due parti che si contendono la guerra cioè sono atti terrificanti non è che tra Ucraina e Russia gli unici che fanno cose brutte sono gli russi perché stanno attaccando anche gli ucraini essendo in guerra avranno ammazzato dei civili cioè funziona così e spero che quando finirà la guerra le armi date per difendersi le ritorneranno indietro perché ho un piccolo dubbio per me per me continuano a tenere e loro poi faranno per me la guerra per vendicarsi per vendicarsi poi loro cercheranno di attaccare come è successo la Russia per l'Ucraina ma chi attaccheranno? dagli ho detto lo sai che sono state date le armi all'Ucraina per difendersi sì e spero che quando finirà tutta la guerra e spero che ridiano indietro le armi ma perché? ma perché ho un brutto presentimento che di sicuro può succedere il contrario loro attaccheranno allora date un calmante ho letto benissimo dopo affrontiamo questa cosa mi date il tempo stiamo fatemi lavorare fatemi lavorare fatemi lavorare vuole essere sbannata la discord eh sì vuole essere sbannata la discord sì poi chiedevano se poi dopo quando noi abbiamo finito se avevi voglia di fare due chiacchiere anche con loro lo dici tanto a me tremo trezzo eh sì trezzo vieni in chat che ti do i poteri pure su discord vieni su discord ma perché non starli e content perché non dovrei cioè quella è la cosa divertente ma starli puoi andare a divertirti pure lui stavo dicendo se ti fa piacere dopo li vuoi far entrare volevano parlarti sia stanco che avvicine con calma se no li puoi far anche io sbatterli fuori perché io vorrei trezzo ci assomigliamo io e Vito studio sempre si metta dritto perché abbiamo i baffetti tutti e due io mi devo fare la barba domani no non è vero Stai bene con la barba ti fa più uomo no a me mi dà fastidio mi dà irritazione per la dermatite ah per la dermatite ok va bene quindi trezzo se ci sei vieni in generale uno che ti do i poteri su discord così ti volevo dire ti volevo dire vabbè finisci questa cosa poi presto in pratica sei concentrato che ti possa parlare comunque poi devo dire una cosa e mi ha dato fastidio che tu mi fai passare dalla parte della persona pazza perché era senza contesto io ho visto quel best of non mi dici le scene tu mi hai messo strato dalla scena in cui io scrivo e basta e sa cosa è sbagliata i best of sono piccole clip cioè non mi metto il contesto devi ringraziare che al momento non ho il copyright però più avanti mi metto il copyright ma scusa tu fai l'intervento in live ti prendi la responsabilità di quello che dici aspetta 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 però non puoi manipolare le cose per farmi passare dalla parte dello scemo e sa cosa mi ha dato fastidio e hai sbagliato aspetta parli che non l'ho fatto io il best of però a me è piaciuto come venuto a me no perché non è divertente e detto ciò ti stavo dicendo prendi quel pezzo non lo taglierai di sicuro io ti dirò togli quel pezzo tramite la cosa ma hai pubblicato che taglio Vito ormai è lì ma non si non è che ormai è lì si può ancora per dirti in quel di Twitch mi ha tolto un video dopo un anno e mezzo gli ho detto per piacere puoi togli quel video per piacere dove ci sono delle cose delle informazioni private e l'ha tolto dopo che gli ho detto per piacere dopo un anno e mezzo io qui ho solo pubblicato tu sei entrato quella volta lì su disco l'abbiamo parlato hai detto l'hai detta o non l'hai detta quella cosa dei partigiani ma poi era una roba memmi a me mi ha dato fastidio ma a te ti dà fastidio tutto Vito cioè non è che sino te mi dai fastidio ma io do fastidio che stai fumando i bubulus sul mio canale che non dovresti farlo vai Vito ti sputi in faccia se lo fai dal vivo vabbè fallo sputa così mi hai già sputato una volta no no sputa proprio sullo schermo no e mi devo sporcare lo schermo per te tanto vale se mi sporco era un trappolone Vito era un trappolone a questo modo che vengo a Torino ti do gli schiaffi ogni volta che provi a fumare un bumbulus ma vieni però a Torino dormo a casa tua abbracciati nel letto Vito per quanto riguarda no letto separato ah letto separato il porto la statuina è in diretta sul mio canale e tu romperai quella statuina di merda che hai fatto per me io quella statuina di merda l'ho fatta con tutto l'amore nei tuoi confronti non mi interessa la romperai la statuina sì o no se sei seriamente se vuoi fare questa cosa per dargli un senso fatela consegnare ad Outsider vai in live vai in live e lo fai in live tu dico a Leccese all'Outsider Leccese un giorno di questi un giorno di questi un mese di questi perché se tutto va bene il prossimo mese forse vado a Roma non per forza con l'Outsider anzitutto negativizzati che non mi passi il Covid a Outsider ma se mercoledì faccio il tambone a parte che devi dire a Better Carbevi di chiedermi scusa per avermi chiamato 25 volte in anonimo Better chieda scusa Don Vito Better ma non è perché questo è stalking non l'ho visto ah PS a proposito di stalking la cosa che mi ha dato fastidio che tu hai detto ah dici Better che mo ti chiama per chiederti scusa in diretta no ma chiamami con numero senza mettere i privati chiama chiama vai Better chiamalo in diretta o se no chiamami come preferisci Better e chiedi scusa in diretta al Don dai o se no ti butta giù automaticamente l'applicazione ecco mi raccomando Better mi raccomando aspettiamo questa chiamata e mettilo in viva voce Vito e mettilo in viva voce e mettilo in viva voce Vito me lo metti in viva voce ma è rincoglionito Vito mi devi chiedere mi devi chiedere ma in viva voce è stalkerizzato questo è reato se non lo sa ho 25 25 messaggi in 24 ore sai cosa significa no è stalking no non la troppo se chiedi scusa potrei venire da me Vito mettilo in viva voce è una cosa privata ma si ma metti in viva voce dai vai oh sentiamo Better sono in viva voce stia zitto wide un attimo non parli mi dissocio non si sente non si sente meno male ti ho tolto l'audio coglione fascista io vai a dire a te capellone drogato comunista ok no la portata vengo a Lecce e sto di nuovo a casa di l'assate no 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 volete essere perdonati al 100% andiamo verrò di nuovo a Lecce voi mi avete detto che volete che io venga di nuovo a Lecce e perché rifiutare si quando era mi avevate telefonato per portarmi a Statuina ci ritorniamo a Lecce la Statuina non me la portate qua cioè non deve non deve passare i confini di San Teramo se la Statuina provava a entrare a San Teramo veramente ti denuncio proprio quella schifezza non deve passare no vieni a Lecce la rompo a Lecce o mi venite a prendere oh vengo io sto parlando con Better Better col Baby no sto parlando seriamente Better vengo a Lecce e facciamo le IRL a Lecce ma fatte bene perché ho la connessione di dati però non si sente Vito ok allora ci organizziamo e vengo di nuovo a passare l'estate a Lecce sì vabbè weekend restato in dei so sette giorni no o sette o quattordici decidi no pagate Don Vito non paga un cazzo siete voi che dovete pagare Don Vito tipo al massimo pago per me ciò che mangio punto ma proprio a esagerare proprio se vogliamo esagerare vabbè tre quattro giorni tre quattro giorni me li faccio che sono da venerdì fino a domenica o fino a lunedì ho detto quattro giorni un weekend cosa vuoi intero un weekend per me un weekend sono sette giorni sì ma Vito ma che cazzo sta succedendo cioè quindi o mi faccio quattro giorni live scusate quattro giorni da voi eh sì e devo fare le IRL all'Hatch sai cosa significa almeno così se incontriamo di nuovo spacciatore anziché dire di non chiamare la polizia perché sta parlando con better ci saranno che doneranno cazzate allo spacciatore cioè no nel senso io faccio restare tutti io chiamo polizia se mi vedo polizia polizia aiuto aiuto e se vi è piaciuto il content bravo ecco l'avete voluto allora Vito senti a proposito polizia polizia tu mi hai detto comunque Trezzo vieni su discord ti stavo dicendo tu hai fatto come si dice il vedere quella clip anche a polizia polizia se eri un amico che clip quello che dove io avevo detto che avevo io ho detto che era successa questa cosa e lui mi ha detto io l'avrei denunciato subito ovviamente ma non avevo dubbi guarda Fabio io gli ho raccontato la storia ma tu cosa avresti fatto io avrei denunciato ecco perché io odio sempre non nominate quella persona l'ancora nel dire una cosa sapendo che io parlo e parlo male non direi no allora Vito posso chiedere più o meno le nostre cose ce le siamo dette che ti dici aspetta io farò pace però se vengo a Torino primis dormo a casa tua per risparmiare tu è importante che scrocchi Vito praticamente cioè questo è il modo superante Don Vito non paga niente a nessuno ricorda ma tu non devi pagarmi però addirittura io debba proprio Vito alloggio devi avere l'onore che Don Vito dorma da te questo Milano devo dormire da è vero che fare una live da questa postazione con Don Vito qua di fianco ragazzi potrebbe essere un giusto pagamento per la mia ospitalità andremo andremo da Dungol che dovrà chiedermi pure lui scusa non credo proprio perché quello che hai fatto da Dungol ce lo ricordiamo bene ed è stata un'uscita poco positiva ma la cosa è che caccia a me che sta la persona che mi offende e caccia a me che ho offeso per l'offesa e non che cazzo senti Vito a scorrere con Manu con Manu invece se Manu vorrà chiarire potrà scrivermi in maniera pacificamente se lui mi dice guarda ti chiedo scusa per avermi spacciato per tuo osservatore perché ricordiamo con Demoni io mi sono incontrato 24 ore dopo che stavo annegando non mentre stava annegando è arrivato non si scherza su questa cosa sai che io ho gli incubi e a volte non dormo per due giorni perché mi sveglio perché mi ricordo quella scena che stava annegando non sapete ma io ho gli incubi e io con gli incubi devo dare retta a uno che si spaccia da salvatore se mi chiederà scusa a Demoni verrà perdonato anche lui e ci sarà nella white list nella white list no white ti posso chiedere una cosa visto che appunto le nostre cose ce le siamo anche dette facciamo entrare a vecchene stanco un secondo trezzo vieni in chat in generale uno che devo dai facciamo le cose per bene facciamo un po' di sbann un po' di roba molte persone mi stanno mi stanno offendendo da te no quindi a parte i soliti zi insomma quelli che fanno sai cosa fanno vabbè ma loro ma lo fanno Vito sono sempre i soliti dai tu ancora che te la prendi ma smetti e Sandro si purtroppo ancora d'oro se siete delle vere persone venite in live cioè domani fare una maratona no no ma Vito non hai capito io dopo ti faccio il ride quando finiamo e poi però ti facciamo un elenco di sbann così la gente ti può scrivere a parte che affinché io non risolvo il problema di questo qua che è anche il gruppetto degli amici vostri nel senso che ci sta che vi conosce molto in mente o tuo fan no Trezzo non può sbannarli dicono qua in chat eh se Trezzo vieni su Discord ti doi potere su Discord Trezzo sei qua? aspetta fammi vedere Trezzo vieni qua un attimo su Discord così vieni proprio in chiamata così sbanniamo un po' tutti ok ti doi potere sbanni tutti sbanni ci sono puoi venire su Discord Trezzo dice a Vecce di no non ho capito ci sono iniziati a guardare strumenti del canale utenti certo moderatore Vecce ne buff eh ho capito ma vieni un attimo su Discord così lo facciamo a voce Trezzo dai entra un secondo caro mi invenuto che ti cambi nome chiamami dammi in potere perché sotto il tuo dammi in potere non puoi entrare su Discord dice Trezzo in questo momento penso che non possa proprio fisicamente ok allora ma un po' che poi vabbè impostazioni diventare nell'autenza è facile ma i bannati come si chiama Avecce su Discord qua eh Avecce come ti chiami su Discord Avecce mandatemi i nomi da sbannare dai Avecce main bianco e nero eh Avecce Avecce sì è quello lì Avecce main bianco e nero esatto e metti poi che più poi I'm stanco come si scrive I'm ma tanto ce l'hai lì nella lista ce lo cerchi no? Sì I'm stanco e più poi Runghio quello ma ancora dai De Runghi ma smetti De Runghi è uno di quelli con Trezzo sbanni De Runghi solo se mi dà scusa non lo faccio più se è pensante se come si sta su Discord questo qua cos chi? secondo te Runghio e come si chiama? E come ti chiami su Discord Runghio? se adesso piano piano facciamo tutti raga il link prendilo dalla chat di Vito stanco tanto ci sarà come ti chiami su Discord sto aspettando che me lo dica Sickmane anche c'è da sbannare ma dai cosa ha fatto Sickmane è perché non mi porta rispetto le dico non mi porta rispetto le dico di non fumarsi il bong ma non fa niente di male si chiama De Runghi comunque D-T-H-E Runghi scritto R-O-O-K-I-N aspetti H-E ciao non è bannato non è bannato D-T-H-E R-R non è bannato non è bannato dice vabbè ah ma forse lui c'era su Twitch non lo so Runghi va sbannato su Twitch ah dicono ah no su Twitch su Twitch non su su Discord madonna che lavoro che c'era a fare qua ragazzi dove sta ragazzi è un casino sto lavoro di sbann non so se c'era poi c'è anche Slezi da sbannare su Discord un secondo e non riesco a trovarlo da qua ah perché fossero bloccato pure allora Runghio trattino basso si chiama su Twitch lui Runghio R-U-N-G-H-I-O come lo diresti Runghio trattino basso poi c'è Mario Gaming non so cosa vuoi fare con Mario Gaming è già sbannato quello là è già sbannato Mario Gaming dico poi c'è da sbannare Dado un secondo che non lo trovo fammi lo spelling di Twitch si R U N G H I O trattino basso che immagine ha non so sarà il primo se Runghio trattino basso se dovrebbe essere lui non può essere ragazzi scusatemi però dobbiamo fare il suo lavoro di sbann perché perché mi dice che in realtà non è bannata aspetta provo a fare così scrive un ban esatto un ban runghio hai rimosso il ban a runghio sto leggendo zambe ma non posso cioè piano piano cerchiamo di farvi tutti molte persone ti posso zambe ti posso puoi sbannare non ho problemi ti posso puoi sbannare però le persone scusatemi chi è bannato su discord da vita lo scriva nella chat di vita perché così almeno quello lo togliamo chi è bannato su Twitch me lo dica allora c'è anche Ori eh minchia il tuo nome è difficilissimo però aspetta il suo nome ho sbannato pure zambi e zambi comportati bene aspetta perché l'account è creato poco fa cioè poco fa qualche mese fa quindi non mi fido tanto bene a tenerti in chat ma magari avrei un altro account prima allora te lo scrivo nella tua chat quello da da sbannare un altro questo è su Twitch ma rucchio se fai così pena che mi doni un bit te dona di più eh Dado c'è da da sbannare Dado mi sta al momento è ancora blacklistato quindi non mi interessa ma il canale è suo Vito appunto continua a dire sai cosa poi sblocca di sbannare sbannare Lugosis che lo conosci bene Lugosis sta bene dove sta e poi c'è Karim da sbannare dai no il Karim o il clandestino vai rotti cazzo ma no questo clandestino ma questo è razzismo Vito non faccia questo clandestino allora vabbè comunque allora dai questi sbanness li facciamo magari a fine live facciamo entrare come si chiama il ragazzo là no ogni volta siccome 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 io gli ho detto per più volte non mi interessa di avere più nulla a che fare con te eh ma perché sono un hero già che te ne esci con il fatto eh non mi vuoi perché sono un hero eh ma se tu lo chiami clandestino però il clandestino l'ho chiamato dopo ma allora c'hai idea ragione ma scusa ma che cazzo di ragionamento è ma secondo te ma perché non si comportava bene perché ma poi ti stai confondendo che Avecce mi diceva che era nello perché Italo persiano ma di nuovo allora Vito aspetta no però non si può andare avanti così è gravissima la situazione Vito possiamo far entrare Avecce e Stanco che volevano un secondo posso dire iniziate a entrare su discord Avecce e Stanco stanno là e stanno buoni là per adesso un attimo in PILMIS uno uno per quale motivo il Italo persiano Nora Ruth che più ragazzi sempre di origine abbanese sono tutti uguali a questo mondo Vito che domande del cazzo sono non è che se sei un bimbo minchia allora ti devo tenere così se hai dei problemi seri cioè io preferisco più un Italo persiano io preferisco più ma l'ho capito questo Italo persiano ma è avanti due anni questo Italo persiano mia sorella Italo persiano sei un coglione lo possiamo dire tutti insieme ma in confronto a te non fuma che ne sa lei magari Italo persiano non me l'ha detto non ha mai fumato e l'in poche parole se un giorno mia sorella si fidanzava con una persona straniera ed era uno con la materialità di Karim o con la materialità di non lo conosci neanche allora Vito facciamo entrare per favore almeno non ti facciamo parlare sono in generale uno oh aspetta che casino che succede oh finalmente I'm stanco che si è inutile se non ti dico tu sei un autore finalmente lo sei diventato sei un autore che cazzo sto vedendo un autore sei sei più bello hanno la mascherina Vito vai giusto così ma c'è vorrei evitare di prendere la malattia di Don Vito vorrei essere la mia malattia avresti la minchia più lunga che non mi fa pensare bene Don la sindrome no il covid mi devo proteggere Don ma mi capisca ok volete essere sbattuti già da mo partiamo subito male però partiamo subito male facciamo un pezzo di merda quando sei brutto metti la mascherina ma guardi ma poi a Vecher si sta facendo vedere in faccia e non dice niente Vito ma tu poi Vito ma tu è anni che dici che mi conosci mi hai visto mi hai bloccato su Instagram ma che cazzo è bloccato che ho visto le storie di outsider non ti tengo bloccato cosa vuol dire visto le storie di outsider non ti tengo bloccato quando che è andata a casa di questo qua a modificarsi ma che cazzo ma cosa vuoi Vito tu sei un ingrato di merda tu sei un ingrato di merda Don perché io da tuo primo grande fan come quello che è di Milano vicino alle gang ispaniche Karim Karim ha appena scritto Karim ha appena scritto se Vito mi sbanna mi faccio vedere vuoi vederla alla faccia di Karim vorrei vederla alla faccia di Karim e sappiamo tutti come l'hai chiamato in privato Don Vito vorrei dirvi io a Vecene no tutti no io a Vecene si guardi che sono cose in privato ma per quell'un motivo perché mi hai detto o fai così o rivolto in chat o rivolto in chat cosa vuol dire rivolto in chat troppi ricordi non ce la faccio rivolta troppi ricordi Don Vito senta abbassalo in queste cazzette io si sono buoni testimoni di Geo mi sanco senta senta ascoltami bene ascoltami bene io non so la metterla senti senti esatto 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 piccolo in grado piccolo in grado ascoltami bene noi ti abbiamo creato noi ti abbiamo creato io ti ho creato la prima cosa di privacy ti ho forgiato zitto ti ho forgiato zitto la prima cosa di privacy è stata pur per colpa a tu perché non volevi che sbannavo chi dava informazioni private non è vero non è vero mi dissocio io non ho fatto niente io ti ho plasmato con le mie mani io ti ho plasmato con queste mani l'audio è un po' morente scusa stanco entro al pc no cosa vuoi ad anto entro al pc perché l'audio è un po' morente vito si è un po' morente però non posso avere la gamma attiva però stavo dicendo scusa cosa mi stavo stavo dicendo forse è meglio stanco noi lo sentiamo meglio tu io ti ho mi volevo il computer bene il ti ho dato no perché si collega dal computer perché ha un audio no vito tu sei un ingrato ma tu ti rendi conto tu sei venuto oggi è testimone di genova sei venuto di genova sì testimone di genova don vito tu sei venuto a piangere no lui mi sapeva di testimone di genova don vito sei venuto da alto a piangere a fare la carità che sei rimasto con due spettatori a sbannarci tutti da rispostare stacco che è tanto la pc ma io per soldi non vi sbanno perché vi voglio bene è per soldi ma che soldi ma che cosa vuol dire ecco questa roba qui cosa vuol dire che sbanni per soldi ma vita questa è una roba bannabile su twitch non si può dire no non ho detto per soldi nel senso per me perché per me siete un guadagno e lo capisci perché la gente non ti caga più perché sempre tu valuti io le persone con in chat non le valuto come soldi io valuto come soldi le persone che non mi vogliono bene perché l'Italo Persiano può anche non sabarsi ma se si comporta bene è un co è un ritardo si può dire si può dire non è ancora arrivato no ma Don non esiste Italo Persiano ma dov'è dove è Italo Persiano ma dov'è Italo Persiano non hai mai visto non hai le prove dove è Italo Persiano Don oddio effettivamente dov'è Italo Persiano io non lo vedo mai da tele Omnibendo sta da Omniatol perché è fan di Omniatol e vabbò capito potrebbe passare ti vuole così bene Italo Persiano due anni che non lo vediamo più Italo Persiano invece noi siamo sempre lì sempre presenti siamo stati sempre Don noi siamo sempre stati qua e tu sei un ingrato di merda perché vieni qua solo sposta stanco sposta stanco Vito e poi ritorniamo sempre al solito gioco Don ma vedi ti voglio bene e te Simone di Giova facciano no tu non mi vuoi bene io ti dico con lingua no 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 io ti dico con lingua morte fredda in bocca tu non mi vuoi bene Don Vito tu non mi vuoi bene perché se tu mi volessi bene cioè tu no vabbè Don io non ce la faccio tu non mi vuoi bene io voglio bene i tuoi sogni ma non puoi riprendere è vero è quello e questo è il punto Don Don io ti voglio vedere per lanciarteli in faccia allora quantomeno posso prendere un sacco di monete porco di quando ritorno a Milano che se tutto va bene tra un paio di mesi torno a Milano dormo due giorni da Oasis e due giorni dormirò da Social Boom oh ma come la Social Boom ma che c'è ma che è sta cafonato basta con questo darlucce e vino Cristo è Dio Don Vito io prendendo delle scuse io prendendo delle scuse l'ho mutato sennò continua a parlare no 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 ma non l'ha detto io l'ho mutato Vito eh sì se stai dicendo una cosa mi rompe i coglioni ma ha solo detto vuole delle scuse lasci parlare ma Vito ma dai io ti ho accettato di stare sul tuo disco perché tu fosse tuo agio però non mutare mi fai vedere il sangue di Cristo porco Dio amen perché sei in camicia c'è un altro perché tu non sei in camicia più Alf che fine ha fatto il nostro outfit perché basta fa troppo caldo io lo porto avanti lo porto avanti Don tra l'altro no veramente io non ti perdonerò mai Don Vito non ti posso perdonare ti sei abbonato e ti ho sbannato mi sono abbonato per farmi vedere quanto sono superiore a te sacco di merda no no ogni insulto baciami la mano non ti bacerò la mano baci la mano bacia la mano che ruppe il tuo naso perché le chiedevi un boccone no no a me ce ne no no basta basta ma basta con questo darà lucevino è guerra è guerra basta basta un secondo che guerra aspetta Trezzo chi ti ha dato ordine di sbannare quello là ma chi è quello là quello là che stavo dicendo una cosa ancora più brutta nel clandestino vabbè ma lascia lo sbannato si fa vedere in faccia Vito dopo in privato si fa vedere in faccia no in privato qua adesso non puoi chiedere una cosa cioè uno può volerla tra l'altro Don tu hai detto che ci siamo persi settimane e settimane di live incredibili oh sponsor di Fortnite Vito sponsor di Fortnite mio porco questo ci hai fatto perdere è vero Vito ecco bravo che l'hai tirata fuori no no a parte di scherzi a parte di scherzi perché sei Fortnite tu avevi sempre detto che ti faccia schifo perché sei passato secondo te non è che sono passato a Fortnite è stato l'hai giocato una cosa di sette giorni e si perché dovevo fare per gli obiettivi per sette giorni ma tu avevi sempre detto che Fortnite gioco da bambini io ho detto io ci gioco soltanto per soldi non è che abbia fatturato chissà che però la cura al gatto le ho fatte me le vuoi dare tu le cura al gatto quindi in poche parole aspetta in poche parole sei un venduto è un venduto meglio fare sponsor di queste cose qua che chi fa video di slot machine e metti link quello è vero questo ti posso dare ragione può dire un cazzo ma Alf ma anche tu che gli dai cosa sulle slot machine preferisco anche io perché cazzo c'entra un slot machine Alf guarda che se scusa mi sono fatto confondere se un giorno FIFA se un giorno FIFA mi dice Don Vito Don Vito ti pago 500 euro per un mese di FIFA allora sei un venduto c'è una ragione però è un venduto è un venduto quindi sei un venduto per quale motivo è un venduto Don in quel caso dai la baracca sta a fare non hai le mani ma neanche Fortnite ti chiamerebbe mai per dirti ti pago per sponsorizzare se io mi metto a imparare potrei giocare anche con Power Fortnite ma con i giorni mi sbannino Don Vito Don Vito ma se non hai voluto giocare a League of Legends con me il suonatore neanche in quello sei stato capace comunque ho sbannato Karim Malpesto venga qua se vuole parlare adesso senta faccia un passo avanti mi sbanni su Instagram adesso dai mi ha bannato quasi due anni fa Karim Malpesto vada il culo ma se vogliamo veramente fare la storia con questo live sai chi dovremmo fare entrare eh Zilo minchia Zilo ti prego no preferisco guarda preferisco dammi fuoco in diretti con Zilo invece sarebbe un grande Jason a parte tua no Zilo 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 no aspetta zitto Zilo mi ha detto cose brutte in chat dicendo cazzate del tipo che quando mi ero arrabbiato in radio che Roberto l'amico mio il miglior amico uno dei pochi amici che ho che dice che io sono stato bannato o espulso dalla radio ho litigato con Roberto come cazzi permette di dire che ho litigato con Roberto ciò che non è vero la cosa più brutta è che mi dici cazzate grande Roby me lo ricordo Roby tu ti ricordi ma tu sei ma tu come puoi ricordarti queste cose ho la chat io ho la memoria di ferro ma secondo te no tu non hai la memoria mi hai detto 28 volte mi hai cambiato per una persona diversa che memoria di ferro devi avere no tu non hai capito tu non è che la memoria di ferro Duz lo trovi vai dalla chat di Vito scrivi puntescomantivo discord aspetta tu non è che la memoria di ferro l'uomo piccione invita a parlare l'uomo piccione quando è che hai detto che viene a Milano se tutto va bene tra due mesi che è il punto minchia ad agosto devo organizzare il modo in mente di sicuro è ad agosto ad agosto ad agosto Milano chi c'è ma io faccio la IRL dovrei farla con Ercole che devo organizzarmi dopo i Boccar però con Ercole già ti sei sentito con Ercole lo sa Ercole lo sa si però ovviamente glielo chiederò sai che con Ercole sono i miei rapporti glielo chiedo al fuori è famoso al fuori è famoso Vito dovresti leccare ma che leccare con lui può leccare a proposito di essere famosi Don Vito ma ora che si è ribaltato il tutto dai è qua piangere miseria è qua piangere miseria vabbè ma dai non ci sta poi una cosa non è vero glielo ho chiesto io il confronto lo sai quando mi interessa sai quando mi interessa se vuoi dare prendere a parte della vastità di sto cazzo che me ne frega sto cazzo sto cazzo possiamo farla a Santeramo quindi la la festa poi Don guarda che la facciamo a Santeramo facciamo così se ti sputo se provi a venire a Santeramo non chiedete la mia città quando vuoi dare però con le spade è il piave borboro non passa lo straniero giusto Vito basta stanco semmai a Vecch è wide mi ascolti quando Guadalfe prenderà la partner faremo non me la gufate stai zitto in etto faremo una crociata a Santeramo una crociata la marcia su Santeramo facciamo crociata a Santeramo ma lo sapete che al comune ci sta un mio amico vi posso dare i daspa a tutti quanti voi basta solo una firma per dare i daspa invasione lo sai che invasione andiamo lì invasione andiamo lì ma cosa dice ascoltate arriviamo con gli astronavi come gli alieni ci facciamo cattare per terra invasione invasione ascoltate questa rientra delle top frasi di Vito no 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 vi do il tasco per invasione vi devo mutare a tutti e cacciare tutti per farlo spiegare vi devo spiegare di preciso perché se voi venite senza se venite in tanti senza perpeso di soggiorno no ancora se venite in tanti in una zona senza dire guarda noi dobbiamo venire e saremo tot persone siete più di dieci potete occupare quel pezzo che in quel momento potrebbe servire che sono una tubulanza ed è in legare venire in massa ma quanti pensi che veniamo Vito in 4 milioni non lo capite cosa pensi che veniamo di autoambulanza deve passare ti giuro che guardo dove passano le autoambulanze e mi metto dove non passa Don Don ma lei pensa che a me mi interessa io verrò lì con il mio seguito come un condottiero una crociata su un santeramo si Karim ti reggo ah l'hai sbannato quindi Karim devi stare alla tua venga Karim no no off live va bene no lo voglio vedere convincilo cosa ti devo dire off live lo devi fare off live lo devi fare per forza però se viene adesso se sei un vero italiano non lo è ma se tu vieni adesso se lui viene adesso e lo fa adesso tu gli dici adesso quello che gli hai detto in privato però no quello non lo possiamo dire il gioco vale la candela non l'ho autorizzata ma l'hai detto ma l'hai detto tu che ti droppai la n-word se no ah hai confessato hai confessato a parte che tu fino a un mese fa gli dici hai confessato di aver dato ma l'hai un razzista ma l'hai un razzista ma l'hai un razzista ma l'ho costretto io ma l'hai un razzista allora lo dobbiamo dire ma se non faccio la rivolta ma che cosa vuol dire ma non è vero ma l'abbiamo minacciato sulla rivolta eravamo in due in tre romo io te romo io te allora sì un secondo allora oddo oltra verso le due le tre di notte anche le quattro verso le due tre di notte anche le quattro stasera oppure domani prima della mia live o i giorni a venire dopo la maratona ah ti sei venuto a spammare la maratona ah ecco oggi era la maratona ragazzi andate a seguire i viti ma lo spammo io andate a seguire fate un TSO ad un vito gentilmente TSO te lo fai con quella sigaretta il TSO è il punto lo shout out sarebbe va bene parliamo di roba serie si chiama TSO da me che le devo dire e non è un problema mio si chiama shout out TSO parliamo di roba serie Don Vito fate entrare Mimmo fate entrare Mimmo mi faccio spazio io Don guarda ero incazzato nero prima però non ce la faccio con te Don tra l'altro invece tu sei con la camicia con i pantaloncini corti della tuta vero sì si vede se vi sta la gamba pelosa la sai la cosa divertente qual è che è sempre un venditore di quelle che fanno le truffe dell'acqua che vendono i depuratori uguali allora senti senti Vito però no no una cosa importante hai sbannato Sbanna anche Dato non devi sbannare Dato non devi sbannare Dato non devi sbannare Dato non devi sbannare Dato sbannare Dato sbannare Dato sbannare Dato entri di diritto nel mio cuore Don però sei un pezzo di merda fai veramente cagare però se io sono un pezzo di merda nella IRL quando è che mercoledì andrò a fare i tamponi in live sempre se me lo fanno fare male che vada oscuro un attimo mi faccio fare i tamponi e poi da fuori continuano la diretta se non vorranno però IRL mi faccio i tamponi in diretta e donate vi sfido e donate cosa c'entra col fatto che sei un pezzo di merda Don e a me mi servono i soldi ma ho capito Vito per i soldi bisogna fare il content e io faccio i content sai quante volte sono venuti ad aggredirmi in live a droppare la N alla F-Award addirittura qualcuno in bici a tutta velocità è venuto ciò che pareggi italiana non puoi superare i tot chilometri con la bici elettrica e questo ha superato pure una macchina ma vabbè se in due senza il casco quindi proprio e non stiamo a Napoli ce ne frega un cazzo dai per favore tanto chi l'ha visto l'ha seguito in live no? eh sì e ho fatto con la mano a Ferda e Trezzo se lo sbanna l'ha fatto alt e la bici capimi il manubrio ho toccato il manubrio con la bici con la mano il manubrio di chi? della bici della bici quindi è uno stupro no perché no perché se non fosse per per meno male la bici è quella là che se c'è un una cosa in mezzo si fermi in automatico se non si sarebbe fermato il ragazzo ecco per come non me ne frega un cazzo ciao Don ciao ciao avete sbannato avete sbannato Dado così magari se vuole può entrare a fare un saluto Fridado Mimmo amico mio Napolitano come stai? Mimmo Mimmo sbannacchista Mimmo no lei non non parlare diretto Napolitano parla italiano italiano Mimmo che c'è Mimmo che c'è Mimmo e da telefono se lo sposti così non mi sa ragazzi Emily in generale uno dai ma c'è Emily veramente? sì sì allora facciamo entrare Emily ecco così parliamo anche da questione Emily che successe cose gravi esatto Don che qui veramente se devi insultare Emily ti dico già da mo che qui veramente cade l'asino può chiedere scusa a Emily per averle dato della poco di buono della insomma no più dico solo cioè vabbè lasciamo per guarda che io dico scusa soltanto se tutte e due diciamo scusa perché pure io cosa ho fatto perché contro di te? beh continuo a sbannare gente che era bannato ma non ma quello si è superato tu mi hai dato della puttana e io ho sbannato le persone beh non funziona proprio così assurdo ma vabbè sicuro non funziona che gli devi poi dare la puttana non funziona neanche darmi della scalatrice sociale in chat dal cerbero magari vabbè ma è fattuale perché è fattuale cosa ho fatto? ma che se Marco fa live Emily come fai su una scalatrice? cosa ho fatto? vergogna di vergogna perché voleva cosa? cosa ho fatto? dimmelo perché ti piaceva apparire in live da me non è vero non è assolutamente vero io sono entrata due volte in live da te ma più di due volte tu più di due volte ma quando c'erano anche altre persone vuoi chiedere delle scuse? sì allora ti chiedo scusa per aver detto cose brutte ma pure tu non è che ti sei comportato in alcuni casi ma perché tu quando fai la scusa e fai le scuse ci sei un matto ma dobbiamo essere uguali al 100% uguali pure lei ha fatto cose che a me non mi sono piaciute che voleva sbannare non ti ha mai insultato non ti ha mai dato prima che avrei prima che io dicevo la pure word e gli ho chiesto me ne vergogno e gli ho chiesto scusa la pure word la pure word la pure word qual è la pure word la ripeta la ripeta no puttana voleva dire mi dissocio l'hai detto tu lo dico io cioè si può dire nel senso io ho detto puttana come l'hai fatto ma io lo ammetto che gli ho dato della puttana ah ok perfetto però è gravissimo però lei pure lei ammette di aver sbagliato non è grave quanto quello che io ho fatto a te sì ma pure tu ammetti di aver sbannato gente a casa ancora prima che ti ho detto ho sbannato persone a miei amiche anche e non mi interessa se a me mi ha dato fastidio anche questo è grave non è grave se mi dava fastidio per me non erano da bann e quindi lo sbannato ok per te ma dire tizio ha scritto questa cosa in chat mentre in realtà non era vero però l'ha scritto dopo che tu l'hai detto in chat questa cosa non ho capito sei amico quello là quando è quello là che mi fece bannare che disse eh quella persona ha scritto in chat x cosa ciò che non era vero però appena l'ha detto lui automaticamente lui lo scriveva in chat quindi erano amici capito e quello bannavo e tu sbannavi l'amico di quello che mi ha fatto bannare non so capire questo è tipo un inception non ho capito niente un sogno un sogno un sogno devo dire non seguirla è stato sbannato Dado e Sigmene sì ma infatti Dado vogliamo sbannarlo anche Sigmene Sigmene su Twitch non è bannato da me ah su Discord è bannato invece comunque su Discord non voglio avere più nulla a che fare cioè non avrà l'onore di apparire da me e io apparire da lui e non poter sentire la mia voce ma chi questo scusa ah Sigmene ah Sigmene ok comunque grazie Michele che fa tante clip e cosa volevo dire volevo dire di sbannare assolutamente Dado fallo tu Vito fallo tu con le tue manine con le tue manine cioè Don dai Dado Dado va sbannato cioè Dado fa parte veramente della base delle colonne portanti comunque Trezzo sbanna ma Trezzo non so neanche se c'è neanche Trezzo il tuo schiavo fallo tu Vito anche io se mi dici sbanna Don il nostro signore Dio Onipotente ti ha fatto le mani usale porco Dio dai ma Mimmo può entrare su Discord ma Mimmo mi sa che da telefono ogni dai poteri o quando entri no ma se entra ci sono dovresti sbannare Dado ma io non capito se Dado è bannato da Twitch o da Discord da Discord da Discord allora come si chiama Dado su Discord ma Dado ma basta scusa ma è più semplice se lo fai tu vai nella lista di ban e togli Dado un secondo non è che ci va tanto allora Dado Dado 8 8 8 8 non so quanti 8 però 4 e mi dissocio dal gioco d'azzardo ma infatti sono 4 appositamente Vito proprio perché non gli piace poi sono degli 8 non sono dei 7 Don no sono degli 8 ciao Guido no volevo dire Dado se vuoi entrare se vuoi entrare Dado non è che è Mimmo che è pavido così ti do i poteri mi rovini i Discord cioè io non mi credo niente di nessuno solo 3 va bene allora Don dai mi dia i poteri a me e finiamola qui dai io sono la versione ti fai d'Italino allora dammeli a me che io sono uno streamer ma non è vero io sono uno streamer almeno puoi se lo faccio caso guarda guarda preferisco preferisco metterlo in culo scusa Vito metterlo in culo ha un cadavere che è darti poteri a te ma lei è un necrofilo quindi buco del culo di un cadavere superiore alla bellezza tra virgolette di Emily ma no ripeti ma come ripeti sta scherzando ti voglio bene Emily sai che se vieni sul disco dove dovevi prendere conseguenze ma lei voleva ingravidare Emily non più mi è passata la voce mi si affloscia con Emily ma no ma come ma Vito ma come si permette ma lei è un caffone ma poi guarda che Vito tu dici guarda che Emily non è che siccome hai visto che Emily si è limonata a mezza Torino agli Oscar allora vuol dire che è una poco di buono ma guarda che pulpito poi da un Vito mi scusi un videoso ma Vito non sai che Emily si è limonata ad Ancol agli Oscar cioè lei non è che certo perché quando il Cerbero ha reagito a quella clip Don Vito era in chat a scrivere che io sono una scalatrice sociale comunque Mimmo ci sei? Mimmo sono i dei poteri te l'ho detto qual è il problema è da telefono non è un problema se ne vado subito da pc allora se ne esce da solo non è colpa mia Don Vito che cosa le devo dire poi le ho detto io ti volevo bene eri un'amica per me poi hai fatto tutto da solo anche Zilo Zilo non hai capito che con Zilo non voglio avere nulla a che fare già sai che ho sbannato Karim già è assai che Karim è sbannato vi cancellate il messaggio di Siccale per favore che scrive cazzate Riccardo Izzi ci mancherebbe solo lui vabbè Vito comunque allora tra di noi due adesso a parte tutto poi se riusciamo a far entrare anche magari di Dado sarebbe interessante non so se è raga piano piano sbanno tutti ok poi ti sbanno quando vorrò vedere la tua faccia off live cioè io nel senso non è che ti devo sbannare adesso quando dovrò vedere la tua faccia poi ti sbanno se ti comporti ma sbannano adesso su Discord se no poi dopo ti dimentichi sbanniamo il clandestino sono da telefono inutile ok ok vabbè ok allora come si chiama questo qua chi secondo te Karim eh ah Karim al pesto si chiama C o K no la K con la K nemmeno un Karim con la C da vero ma è che c'è Karim con la K non è vero ci sono i Karim con la C però vabbò no non è vero c'è Dado che dice che se gli chiedi scusa sarei amici come prima per quanto vi riguarda chiedo scusa a Dado però pure tu chiedi scusa anche a me per cose che mi fa però vabbè comunque non sai che sono così le scuse di Dado che sto scusa è contento ti volevo dire a Mimmo un secondo un secondo ora ti mandi il disco comunque Mimmo domani facciamo di nuovo la prova se ci sei vieni domani in live quindi Vito volevo chiederti quindi pace fatta siamo abbiamo chiarito in teoria sì ma quale pace ma che teoria ma quale pace ma perché quale pace ma io non lo voglio io ma perché Don Vito è un ingrato Don Vito ma che se è un ingrato l'abbiamo già detto ma è l'unico che gli prova a far capire il discorso no 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 stai zitto non mi ne frega allora senti non mi ne frega un cazzo stai zitto comunque c'è superiore all'amicizia e c'è superiore a quella di Wild sì sì vabbè quello che vuoi quanti che mi ha regato mister Marra sì due muscoletti da soffrire la vicenda non si fa con i soldi ascoltami bene a meno mi vuole bene mi aiuta a tutti noi che ti abbiamo creato chiedere scuse in ginocchio in ginocchio semmai tu quando mi fai una pompa io prendendo le scuse io prendendo le scuse a me e a tutta la chat a tutti quanti noi che ti abbiamo creato plasmato ma se ne va da fanculo ma come se ne va da fanculo ok lupastro ah lupastro ma Vito ma come si è permesso di te lo glielo così ai stanco e mi dici che devo mettermi in ginocchio semmai in ginocchio ci sta la salute io però senza stanco mi sento a disagio non mi interessa lupastro no senza stanco come si fa come si fa come si fa le mutande te le strappere io bisogna che stanco torna senza stanco non riesco a parlare con lei quando si è rompicoglioni lupa vogliamo chiedere a lupo se do una 20 sub al mio canale come segno di pace io mi dico un cazzo adesso qui mi dico no volevo fare l'ho fatto per vita solo che non gli hai dato tempo di rispondere stai zitto mi sto nervosendo allora neanche brutto lurido pavido del cazzo non ti permettere mai più ma stavo scherzando e tu mi dici che mi chiede in ginocchio mai mi inginoccherò non mi sono mai inginocchato lo sai che una volta mi sai cosa mi è successo una volta quando non ero famosissimo sul web sentiamo uno uno della mia città sai quei ragazzini teppissi del cazzo con la mano al collo mi ha sbattuto e mi ho detto eh se tu monetizzi quando è su youtube non ti fa lo stream su youtube mi dite una percentuale a me io ho preso così pam gli ho dato la testata e me ne sono andato ah ma è ok gli ho dato la testata sul mare non alla violenza Vito diciamo non alla violenza però in quel caso ho dovuto farlo per ok cioè mi ha sbattuto una tecnica più elaborata da lei che ha picchiato cotanti bulli cotanti Vito lo vogliamo dire una volta per tutte che sono tutte cazzate queste che racconti no no va bene io ho la possibilità lei deve ringraziarci ci ringrazia adesso in questo momento no grazie di essere te sabato solo per tre mesi no 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 e se sei un vero italico ma che tre mesi parli di soldi ma che tre cosa tre mesi finché tu farai così finché tu farai così le persone che ti seguono non devono essere viste come delle banconote delle carte di credito con le braccia ma io sto prendendo per il culo voi che mi ma tu mi spacciate tu prima dici la verità e poi ti giustivi con questa roba sappiamo bene tu questa roba di chiedere i soldi l'hai sempre fatta ma non funziona tanto l'italo persiano è un miglior miglior fan vabbè vabbè chiudiamola qui io volevo solo ma tu siete razzisti perché l'italo persiano non è italiano come hai fatto ma tu pensi veramente che l'italo persiano sia persiano ma infatti non è un persiano nicarabo vuol dire che sono arabo quando voglio un giorno che è l'italo persiano viene su discord e si mostri è la carnagione più scura di Karim e dice italiani gran dallo è la carnagione scura Karim è italiano Karim è in generale uno Karim caro il clandestino ama vita sei un genio Karim allora che cazzo entra a fare Karim ci sei da telefono Karim ci sei provo a fare una cosa è da telefono un coglione è monosaggio Karim aspetta Don Vito Don Vito ascoltami un attimo è fondamentale non fare nulla non toccare nulla allora mi serve che sotto la tua supervisione mi dai un secondo i poteri da moderatore per sbattere fuori questo rincoglionito di Karim per piacere voglio avere questo suonatore per favore dai ma perché mi devi siamo già stati bannati una volta per non far cancellare i messaggi per favore poi oasis come stai il vero amico mio che mi doveva ospitare a Milano però per fortuna il cebbero mi ha fatto stare in hotel per fortuna tua perché casa mia è una merda Vito però se vengo a Milano tra due mesi mi serve posto eh vabbè ci possiamo ci possiamo mettere d'accordo ma non faccia ma non gli dia posto a questo ingrato lo vede come fa ma 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 oasis mi vuole bene sei proprio ma anche noi ti volevamo bene ma poi si è trattati come delle merda Vito tutti ti vogliono bene una cosa scurda una cosa scurda non lo capisce tu entra oasis e tu subito a scroccare ma ma com'è possibile oh ma è di Milano devo trovare lei è un dio non scrocconi bravo un pasto e siccome le voglio bene per cinque sab le faccio VIP offerte che non può rifiutare Vito io devo andare buona sera allora ovviamente sto scherzando l'upasto però se le donne è scherzando ridendo e scherzando ridendo e sterminando insomma che sterminando e mica sono quello col baffetto cioè io ma chi sono Giovanni ho fatto un pochino la citazione Aldo Giovanni e Giacomo al grande dittatore ma lei è un pochino la fisione vabbè anche Giovanni nella citazione c'era il baffetto quindi ho pensato bene vabbè comunque Vito volevo decretare una sorta di pace tra di noi ufficiale vogliamo decretarla è il motivo per cui sono entrato volevi far passare alla storia anche tu questo è un momento storico almeno voglio che vi stringete virtualmente la mano ce la stringeremo anche dal vivo e dal vivo e dal vivo spaccherà la statuina che mi ha regalato dai dai non lo farò mai io con questa statuina qua lo strapperò c'è gente come come Oasis Joe che ha lottato per questa statuina ha capito è vero è vero è stata in grado in grado questa statuina per molta gente è stata motivo di orgoglio invece tu la devi come al solito devi denigrare statuina del cerbero è superiore a quella assolutamente no ma stai scherzando io da amante del cerbero non devi fare il leccaculo ma che motivo c'ha di fare il leccaculo è effettualmente bellissimo la testa dell'alieno a livello di marketing ha più senso che io lecchi il culo al cerbero che si fa 6.000 spettatori o a wide half che se ne fa 150 perché al di stato i social media manager social media manager ok ok quando dici questa cosa ti accomuni a tutta quella gente che di web ti voglio bene sto scherzando wide half ma io so che lo pensi non sei l'unico non sei l'unico ma si scherza più o meno comunque come stai dicendo tra i due mesi perché tra virgolette purtroppo devo fare la live con il cristale e quindi ma lei veramente che contenuti che contenuti quella la seguo quella la seguo ma in che cazzo di tombino sei finito visuale soldi ovviamente gli ho detto a cristale la prima cazzata la serie che fatti i tuoi coppini perché cristale ha fatto sa cosa irl in cambio si comporta bene se fa la prima cazzata è coppini Vito ma se va a Milano l'ospita Dado ah si c'è Dado che dice che ti ospita lui aspetta ho detto due giorni mi fido più di Oasis due giorni dormo da Oasis e due giorni ma come si fida più di Oasis ma Dado cioè è lui Dado lo conosci da tanto tempo anche vabbè comunque ma perché me l'ha detto il cristale ha detto che il social boom ha accettato dai su basta con questo accattonaggio su via ovviamente non ci starà il rospo perché gli ho detto al cristale se faccio la live con voi non voglio rospo quindi ma tu sei sempre lì che detti ma scusami Vito ma da quale dall'alto di cosa detti sempre tutte queste perché a me non mi piace perché ho capito ma se ne dico loro anche io quando esco con della gente guarda c'è qualcuno che non mi piace ma sono con gli altri ci sono c'è per ditti perché l'ospo non ti piace cosa c'è contro l'ospo secondo te dai che ne so io dimmelo tu gli va le forze dell'ordine lui già è il contrario ma che è il contrario ma non è che è il contrario è già che offendi per me le forze dell'ordine per me non voglio avere nessuna amicizia già da quello non voglio avere nessuna amicizia se offendi i clandestini come fai tu sì se invece offendi le forze dell'ordine a parte che i clandestini in primis i clandestini non è che sacrificano la loro vita per evitare accortellamenti o tentati omicidi ci sono un bucchio di poliziotti che sono stati condannati per aver fatto le cose terrificanti cosa c'è e meno o male sono stati condannati perché qualcuno ci ha messo anche 5 anni se sei poliziotto sei l'eroe se sei ragazzo immigrato attenzione c'è c'è immigrazione e immigrazione grandissima che sono due cose diverse che a molti accumulano la stessa cosa no sono due cose diverse quindi evita di fare il paragone sto dicendo scusami perché disprezzi cioè tu sei un po' senti allora lo sappiamo tutti classisti ma la vogliamo dire il bene e il male c'è una linea che divide il bene e il male Vito non esiste ho tanti amici aspetta un secondo mi stanco ho tanti amici ospi no no ho tanti amici di origini straniere ma mi posso fidare però io non sono razzista ma sempre però se devo andare in giro che so con uno che conosco facciamo finta conosco un italiano un italiano bianco ok conosco un italiano bianco che ho rapporti di amicizia stretti da anni a dormire a casa sua con uno oppure viceversa conosco un fan o un amico straniero è sempre lo stupido vado a mi sono scordato di dove è italo persiano in persia vado in persia non esiste più in persia in italo persiano sarà mezzo italiano come si chiama vabbè vado nella città di italo persiano e mi c'è un altro c'è un italiano bianco cento per cento eccetera eccetera come molti dicono che io amo la razza bianca cioè io amo l'italiano no no le razze non esistono allora adesso devo fermare vito ma le razze esistono esistono le razze allora qui l'etnia comunque perditi no perditi quelli che dicono queste cose qua perditi preferisco andare scusa vito più andiamo avanti con questa live se non è peggio però comunque ti lascio preferisco andare a dormire da italo persiano che conosco di più che da uno che dice eh ma io sono italiano c'è un due per cento e che me fai che io non ti conosco bene preferisco dormire da italo persiano io qui la devo contraddire qui la devo contraddire allora perché odio gli albanesi questa è la cosa ancora è finito ma se odio gli albanesi per quale motivo io l'ho mangiata a fuoco ormai lei è mio ah quindi lei è pro contro lo sterminio di certe religioni io sono contro lo sterminio delle religioni esatto sono contro no sei pro perché se mi hai marchiato e chi è che marchiava chi è che marchiava nell'epoca uno col baffetto io posso anche marchiare le vacche io posso anche marchiare le vacche lei è a livello di una vacca io lo sto mungendo no no lei è la mia vacca livelli altissimi ragazzi allora allora mi taccio è andata bann I'm stanco no no ma perché banna ma Vito ma come ma regga il confronto ma regga risponda stanco no no lei che deve chiedere scusa a me mi scusi io l'ho creato tu hai creato sta minchia cioè lei no ma si rende conto che cosa ho creato insieme agli altri insieme alla chat storica mi dissocio perché continuo a odiarci tutt'ora tutt'oggi mi dissocio da noi no no perché si dissocia perché ci ripudia è una cosa che non ho scritto in chat ah ok non Vito lei ci deve accettare basta con queste stronzate io vi accetto però sì ma non con l'ascia eh cioè non faccia il jack della situazione comunque togliete quella clip che qualcuno non sarà un razzista ma dovete togliere ma tu c'hai la mia chat aperta Vito ma cosa fai ogni tanto che abbia ancora qualcuno sei la chat aperta puoi scrivere un messaggio in chat per favore dai secondo me l'ultimo messaggio di Vito poi vado a vedere i messaggi Vito devo mettere il quello che vuole può anche scrivere spammare può fare quello che vuole aspetta un attimo lei si rende conto che per trascinarla proprio dagli abissi di Twitch da quel pantanamo siamo dovuti intervenire noi sono super ragazzi quanto è bello vedere i psilontini da video che scrivi rimosso il follow siamo discesi di lei come degli angeli ma si rende conto l'abbiamo tirata fuori da quello schifo da quell'abisso scuro adesso sta ma a me mi piace stare all'inferno faccio come i Doomslake ma lei non sta nell'inferno Don Vito I'm stanco I'm stanco mi dica che cos'era? non lo so penso una citazione del grande dittatore no no è come in John Wick quando fa la mossa che ma scusa perché l'hai buttato fuori di nuovo no è bannato nel senso ma com'è bannato? spammato spammato ma così torniamo sempre da capo è il meme ma è il meme ma col meme banniamo con uno sterminio come al solito mi dissocio hashtag no lo sterminio ma lo sterminio inteso a livello del web non a livello ma è quel Lorenzo Tafuro? aspetta che se è quel Lorenzo Tafuro se è quel Lorenzo Tafuro? vedremo immediatamente se è quello sta caricando la webcam è Tartufo Lorenzo Tartufo che parla no semmai Tafuro tu gli amici non gli offendi ah è l'amico suo scusi ma non lo so dovessi togliere la cam da un'altra cosa se Lorenzo ma meno parla se non è da telefono pure lui è sempre lo solito problema Vito Tafuro? vabbè beh tu sei un mat direi poi chiede ad un vito se dissocierebbe dalla sua vita no no ma che cazzo ma io l'ho pure letto eliminate il commento di ma che cazzo subito ma che cazzo ma ragazzi ma ogni tanto siete veramente ma non fa neanche sai che io posso segnalare posso segnalarvi e premambannare no aspetta posso premambannare il vostro account mandando un ticket a Twitch caro mio no questa è una cosa gravissima io non sono d'accordo su questo quella cosa che è successo poi se riesco un professore da sbannare su Twitch no non lo sbanno se sarò riuscirò a scoprire eccetera eccetera poi mi potrò fare un sacco di soldi per relazioni di privacy e altre cose e poi mi comprerò una casa a Roma perché se tutto va bene il prossimo anno ma perché proprio Roma? è perché voglio andare a lavoro no perché lo sai lei a Roma caso strano a Roma dove c'è la Cerbero House ma non è per quello in primis perché voglio andare a lavorare tra virgolette per il prossimo anno a Roma prima voglio fare la gavetta e lavorare a Mediaset che sta in Puglia perché Mediaset che sta per il montaggio di video che io sto pure lavorando per un montaggio di video domani dovrei aver finito dovevo fare oggi la maratona però non abbiamo finito delle cose un po' perché è venuto in ritardo chi doveva venire e quindi e io per campare non faccio solo streamer ma faccio pure le cose per portare avanti e pagare le bollette comunque no io andrei a vivere a Roma in primis perché voglio cambiare vita cioè dato che ti sta offrendo un lavoro in chat appunto se vuoi fare la sua segretaria ha detto che ti prende ma devi metterti una minigonna però e io ti sputi in faccia ecco comunque vuoi venire a Roma continui continui aspetta in primis cioè dopo che avrò trovato lavoro per Mediaset in Puglia vorrei dire posso trasferirmi a Roma perché quelli che lavorano a Mediaset per l'inizio fanno sempre uno o due anni poi chi rimane sempre in Puglia perché non vuole trasferirsi però quelli che hanno lavorato a Mediaset e che conosco che è della Puglia hanno detto dopo un anno di gavetta si sono trasferiti subito a Roma e hanno fatto già il contratto per Roma quindi stanno a Roma da oltre dieci anni quindi non è difficile anzi molti delle Iene hanno detto non inviate curriculum quando andate a Roma Milano Torino e altri perché Mediaset sta a tutte le parti andate direttamente alla sede Mediaset con i curriculum e fatevi conoscere curriculum 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 e modulo in mente vi assumono ovviamente dopo tutto questo mucchio di cazzate no 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 perché ovviamente ti chiedevano dove hai studiato per fare questo hai fatto un corso qualcosa si ho fatto pure il corso come videomaker video editing ultimamente due anni fa circa sapete un cazzo di me nel senso che cazzo sono io perché tu sai che cazzo ho fatto io mi scusi io ho un amica che lavora alla media a parte che si deve aggiornare si deve aggiornare comunque dopo tutto questo mucchio di cazzate cui tanto ovviamente nessuno avrà seguito perché vabbè comunque io anche per il fatto di vivere a Roma sai per quel motivo vorrei pure a vivere a Roma si si sentiamo perché mi è pure facile poi allenarmi per tra virgolette come wrestling e giusto che faccio faccio una cosa e l'altro non per ovviamente il cerbero ok ho amicizie col cerbero e potrebbe capitare che potrei stare potrei provare le più e più volte l'altro lei sta provando lì a fregarmi con questi discorsi posso dirti una cosa no aspetta non la prendere come una roba allora il cerbero ha tirato tutta la visibilità di sto mondo cos'altro c'è nel senso ormai quello che vuoi ma no devo stare a Roma devo stare a Roma perché mi sarebbe più facile per allenarmi per il wrestling se io voglio andare a lavorare a Roma è perché mi è più facile allenarmi per diventare il wrestler è un match esibizionista che voglio fare non era per quello dicevo in generale siccome tu questo cerbero c'è sempre un po' no è sempre stato un po' infissa tanto al cerbero anche se ti ospono non ti danno visibilità quello ti voglio dire non che non te la danno nel senso ormai ti conoscono tutti cioè penso che veramente e quando faccio just chatting e mi raidano riesco a tenere a bada ma infatti a Vito quante volte miliardi di volte ho detto di fare just chatting quando faccio l'IRL ok Lorenzo my friends entra in generale ma l'IRL non c'entra niente io sto parlando di just chatting se tu facessi ma tu i match oltre cioè tu non penso che rientri nel peso più ma guarda che nel wrestling è spettacolo ma tu rientri nel peso sabbia peso aria in teoria il peso sabbia è più di peso più ma se non lo sai ma vabbè se è un granello non lo so un granellino allora per dire il termine sabbia ti ha assormenti un sacco quindi un sacco è più di un sacco di merda come ti diceva Veccio no ti volevo dire ti volevo dire al posto che mi ha offeso quindi mi ha offeso mi ha offeso mi ha offeso io ho detto come diceva Veccio nel sacco di merda non te lo ricordi questo meme nel sacco di merda e quindi lo sai che ti faccio un scorpio un death drop sulle puntine se non mi chiede se non mi chiede scusa e io le faccio un body splash non sai nemmeno che non esiste hai invertito hai invertito la body slam e la full splash ah no ha ragione body slam ha ragione e stia zitto allora qui ho errato io baci la mano allora le faccio baci sto cazzo devi baciare Don Vito ma che cazzo dici se mi dice la body slam non ce la farebbe uscirebbe dalle corde le faccio una chop slam alle corde se mai se mai chop slam chop slam chop slam chop slam è quella che si dà la mano chop slam quindi stia zitto e mi baci la mano ma a parte questa ma tu lo sai che qui a Roma quella di Kane quella di Kane quella ancora un'altra però se metto una devo cacciare ma se tu vieni a Roma tu lo sai che è vero che in stazione ti vengo a prendere io Don ti porto io poi in giro per Roma allora in primis se vieni apprendi perché voglio dormire a casa di te per risparmiare ma Vito posso dirle che lei è una puttana che dorme no no ma io la faccio dormire da me ma visto che casa mia comunque non è chissà quanto grande penso che dormirà nella cantina se non le dispiace ma mi va bene è importante che risparmiare te ne vuoi andare a mi stanco? no e ti caccio io io direi che siamo ecco ma gli sta Anna scusa che cacchio metto Anna Manna anziché a me stanco facciamo entrare Anna vabbè Lorenzo sei tu per caso non mi sembra la mia Anna Manna questa eh sì Lorenzo e fai entrare Anna Manna vuole la partner questo è per caso cita il famoso meme Don Vito Piccione no voi l'avete creato e questo è sempre buio però casca a pennello scusi Don Vito Piccione questo e Piccione non lo vedrai mai caro mio caro Waid Tafuro Tafuro dica la verità questo è è un ritorno di Don Vito Piccione ecco vedi Tafuro ha seguito Tafuro non fare la parte dello scemo qua nel senso se no la sentiamo di quella cosa che non si capisce un cazzo già ti si sente male tipo ti si sente male quindi tu hai quella cazzo di maschera che mi è un trigger ti sento ma ti sento male no ma il microfono è stato sbagliato non può essere la maschera che lo fa sentire così ah ma c'hai il mic c'hai l'effetto sul mic ci sta l'effetto se sto con Lorenzo da fuori devo cacciare guarda perché mi piace stare più ci deve stare per forza la presenza femminile qua senza è meglio si ti vuole la presenza femminile no ci sta purtroppo Emily che io voglio me ne vado gentilmente eh no voglio questa è una lampa veri maschi alfa quindi io me ne vado io non posso allora volevo dirle Don Vito tanto io sarei in chiusura quindi se vuole le faccio ride e può andare se vuole lei è obbligato a fare un cazzo scherzo ti voglio bene forse però vorrei che lei dicesse Wildalf abbiamo raggiunto un accordo e quindi pace è fatta gentilmente se lo pensa eh Vito non mi dico Wildalf abbiamo raggiunto un accordo no però senza le virgolette senza le virgolette stai zitto che non se ne è accorto no io mi ne sono accorto benissimo anche se mi fumo i bubulus non è che so cieco cioè voglio dire vabbè si toglie l'occhiale sennò già è vero verrebbe instant per manbannato esatto ehm comunque a parte scherzo eh hai acchiappato il live cosa eh ragazzo no eh Emily è storia lunga no come no ah quello là il fatto della ragazza in IRL sì sì tra virgolette sono riuscito pure a rimorchiare qualcuno in IRL voi che vi perdete le IRL di Don Vito TV cioè io scusi però lei Tafuro ha interrotto un momento sacro scusi lui mi stava stavamo facendo pace con Vito io ho fatto pace con il signor Whitealf Whitealf ha fatto pace con me lui sa di aver sbagliato come io so di aver sbagliato abbiamo sbagliato entrambi e siamo tutti due dei coglioni punto va bene o possiamo dire meglio che niente dai meglio che niente o questo o nulla va bene va bene va bene allora Vito io la saluto adesso ne faccio un ride sbagli un po' di gente perché se no non lo scriverai io io lo dico scrivete magari in privato a Vito di sbannar su Instagram punto scrivete su Instagram a Vito di sbannar perché io adesso non posso fare due ore di live dove vi faccio sbannare perché l'ho già fatto per tanti anni per cui va bene vi saluto ciao Tafuro ciao Oasis ciao Vito un bacino ora facciamo una live seria buona continuazione ciao ragazzi ciao ciao allora ragazzi torno di qua dai ci siamo divertiti l'importante è questo ci siamo divertiti almeno io mi sono divertito non so voi ma ci siamo divertiti vi faccio un ride ad un vito significativo un ride simbolico oggi ragazzi è andata male adesso tre sub mi sono fatto mannaggia oggi ho lavorato gratis ho fatto pure i straordinari ma spero che appreziate questo mio gesto allora ride yt don vito tv e voilà e ragazzi vi do appuntamento domani ma tu dove sei non c'è ciao suonatore vi do appuntamento domani alle ore 18 come sempre in live vi ricordo appunto se volete unirvi al telegram instagram se volete rimorchiarvi rimandarmi nudini su instagram e ci vediamo domani ah puntescomantivo youtube ragazzi ve lo ricordo ormai sono abbonati quindi chi vuole rivedersi le live deve fare puntescomantivo youtube e recuperarsi lì le pubblico tutti i giorni vi saluto ragazzoni buonanotte buona continuazione di serata a tutti andate a fare un salutino al don spero che vi siate divertiti ciao ragazzuoli se vuole bene un bacino buonanotte grazie a tutti